William viveva in una città turistica sulla costa del Mar Nero, dove si trovava la sede della sua holding, la Cuban Prestige. Questa comprendeva una grande catena di negozi di alimentari. Era un uomo d'affari di successo che teneva alla reputazione e alla prosperità della sua azienda. William, fin da bambino, ha cercato il successo e non si è fermato a ciò che aveva raggiunto. Era costantemente alla ricerca di nuove opportunità per sviluppare la sua attività e migliorare la qualità dei prodotti offerti dalla sua azienda. William si sforzò di creare un ambiente di lavoro confortevole, in cui ogni dipendente si sentisse apprezzato e importante per l'azienda. Si è reso conto che i dipendenti soddisfatti sono la chiave per un'azienda di successo e prospera. Questo lo ha aiutato anche a mantenere un alto livello di professionalità e qualità del lavoro nella sua azienda, che a sua volta gli ha permesso di mantenere una posizione di leadership nel segmento di mercato di riferimento. Tutti i dipendenti parlavano di lui solo con gratitudine e sincera ammirazione. William era noto al pubblico come un filantropo che donava molto denaro a vari progetti caritatevoli e sociali. Aiutava in modo disinteressato chi aveva davvero bisogno di sostegno e si impegnava al massimo delle sue capacità per rendere il mondo un posto migliore. William aveva degli invidiosi, ma anche dei seguaci. Soprattutto tra i più giovani. Era un'ispirazione per molte persone. Il suo esempio ha dimostrato che ognuno di noi può fare qualcosa di buono e aiutare chi ha bisogno del nostro sostegno. Ha ricordato alle persone che dovremmo essere generosi e pronti ad aiutare chi ha bisogno. Senza volerlo, William ha dimostrato di essere un uomo che ha lasciato un segno nella storia. La sua generosità e il suo altruismo hanno ispirato altri a compiere buone azioni, poiché tali azioni hanno creato nella società la consapevolezza che la ricchezza non deve essere usata solo per la gratificazione personale, ma anche per aiutare gli altri. Non era raro che venisse invitato a vari eventi. William, lavoro nel Dipartimento per gli Affari Giovanili. Abbiamo un nuovo programma in arrivo. Si chiama Business Mentor. Lei è stato selezionato come candidato idoneo. Potresti dedicarci un po' di tempo per partecipare. Quanto durerà il programma? Che forma avrà? Il programma durerà tre mesi. La partecipazione faccia a faccia è prevista solo nelle fasi chiave. L'evento introduttivo è una conferenza con discussione dei risultati intermedi con tutti i partecipanti e la finale. In totale si tratta di una partecipazione faccia a faccia al mese. Tutto il resto del programma, a distanza. Qualsiasi variante di interazione tramite messaggeria, social network, e-mail è accettabile. Questi formati e modalità sono adatti a voi? Credo di sì. Ditemi solo quando posso familiarizzare con il piano dettagliato degli eventi e il calendario. Vi invierò tutto per e-mail questa settimana. Ora termineremo le attività preparatorie, riassumeremo i risultati e invieremo a tutti coloro che hanno accettato di partecipare i documenti necessari. Ok. Vi aspetto. Grazie mille per averlo fatto. Lei è una risorsa per noi. Se avesse rifiutato il programma avrebbe subito una perdita significativa. Lei è una leggenda vivente. Molti aspiranti imprenditori ci hanno chiesto se lei sarà tra i mentori. Naturalmente il barile di miele non era privo di catrame. C'era chi non condivideva le sue opinioni e considerava William un esibizionista. In particolare questa opinione era sostenuta da alcuni concorrenti, per i quali l'esistenza stessa di William era una vera spina nel fianco. La loro vita sarebbe stata molto migliore se non fosse mai apparso all'orizzonte. Questo Guglielmo è solo un emergente che si è trasformato in un principe. E ora ci insegnerà come costruire un'azienda come si deve. Non era raro sentirlo dire dagli uomini d'affari locali. Sì, Alex è d'accordo con te su questo punto. Abbiamo un'azienda di famiglia. L'ha avviata mio nonno. Lavoriamo alla vecchia maniera da secoli. Non abbiamo mai avuto problemi. E poi è arrivato questo William. Con le sue cose stravaganti. Tutti parlano di lui. La gente si racconta i suoi programmi di fidelizzazione. E ora, quando qualcuno viene da noi, che sia un potenziale cliente o un candidato per una posizione vacante, ci paragona alla Cuban Prestige Holding e storce il naso. Non hanno ancora avuto il tempo di provarla e sono già insoddisfatti di qualcosa. Da ogni ferro si sente parlare solo di questo William e dei suoi successi. Da dove viene? Chi c'è dietro di lui? Un uomo semplice non può salire così rapidamente e mantenere posizioni di comando per molto tempo senza il sostegno di una persona influente. Cosa ne pensi? Jack, ho controllato i miei canali su questo piccolo uomo. È un cavallo nero. Si dice che sia rimasto orfano di madre in un villaggio locale. Fino a un certo punto era sconosciuto negli ambienti economici. Poi è apparso improvvisamente all'orizzonte con il suo progetto imprenditoriale e ha ricevuto una sovvenzione dal governatore per lo sviluppo delle imprese. C'è dell'altro. Ma non credo a queste storie strappalacrime. Il mio istinto mi disse che sono solo favole per l'uomo comune. In ogni caso, è il fratello o il cognato di qualcuno. Basta cercare con Escioni nonne alla nostra regione. Così indovinato periodicamente e perplesso per il successo di William, i suoi concorrenti, i suoi allori, non gli davano tregua. Nel frattempo, non prestò attenzione agli intrighi degli invidiosi e continuò a espandere la sfera della sua presenza e influenza nella regione. Guglielmo costruì anceconi il proprio denaro una clinica privata per la salute della nazione alla periferia della città, dove oltre ai servizi a pagamento sarà un programma sociale per alcune categorie di persone, tra cui pensionati, famiglie numerose, disabili e cittadini a basso reddito. Voleva aiutare le persone che non potevano permettersi cure costose a ricevere diagnosi e terapie di qualità. Ha pensato alla necessità di questo aiuto, anche nella sua prima infanzia. È cresciuto in un villaggio dove molte persone avevano difficoltà economiche e non potevano permettersi cure costose. William ha deciso di voler fare qualcosa di veramente utile per la sua terra natale e di contribuire a colmare le lacune esistenti nella politica sociale della regione. Nacque così la decisione di costruire una moderna clinica privata, dove le persone potessero ricevere cure mediche ad alta tecnologia, a condizioni vantaggiose, senza lunghe attese per le quote di bilancio. William investì tutti i suoi risparmi in questo progetto per garantire la disponibilità di servizi medici ai residenti della città e ai pendolari dei villaggi e degli insediamenti vicini. Creò un proprio programma, al quale potevano partecipare tutti coloro che appartenevano a determinate categorie socialmente svantaggiate della popolazione. Il giorno dell'inaugurazione della clinica, dal podio si sono sentiti slogan che ricordavano alla vecchia generazione il passato socialista. Cari amici, cittadini e residenti della regione, Cuba Ni, sono lieto di dare il benvenuto a tutti i presenti all'inaugurazione del nostro centro medico. Da parte mia, prometto che farò del mio meglio per mantenere e proteggere la salute della nazione. Non è un caso che abbia scelto questo nome. È molto simbolico. È anche il luogo in cui ci si può aspettare la giustizia sociale, che scarseggia nel mondo di oggi. Nel nostro centro tutti sono veramente uguali. Non dividiamo le persone per classe e rango. Non ci interessa quale sia il vostro status sociale e il vostro reddito. Siamo tutti esseri umani, e tutti hanno gli stessi diritti fin dal momento della nascita, compreso il diritto alla vita. E questa vita non dovrebbe essere una lotta costante per l'esistenza, ma una vita confortevole con tutti i vantaggi della civiltà. Non viviamo in una giungla, ma in una società moderna. Dopo queste parole si è elevato un mormorio di approvazione tra la folla, che si è trasformato in una standing ovation. La clinica era dotata delle più moderne attrezzature e offriva un'ampia gamma di servizi medici. Il Centro per la Salute della Nazione guadagnò rapidamente popolarità nella regione. Come per tutte le iniziative di William, persone da tutta la regione e anche da altre regioni venivano qui per ricevere diagnosi e terapie di qualità. Il personale del centro lavorava con grande dedizione e c'era anche una sala di assistenza medica aperta 24 ore su 24. È questo centro medico che William considerava la sua principale idea, perché sapeva che la sua clinica stava dando un grande contributo alla salute della gente della sua regione natale, oltre che alla giustizia sociale. I giornali sono ancora una volta pieni di titoli eloquenti. Un uomo d'affari di Cuban ha creato un centro medico per la giustizia sociale. L'imprenditore ha deciso di sviluppare un altro segmento di mercato. L'uomo non vive di solo pane. Il nuovo centro medico fornisce assistenza gratuita a tutti. I detrattori hanno percepito un altro successo dell'imprenditore come un fallimento personale. Alex ha sentito la notizia. Ho già fatto le mie condoglianze. William ha avuto di nuovo la sua fetta di torta. Per tanti anni non c'è stata praticamente concorrenza in questo settore. Che fine ha fatto il mondo? Già, Jack. Si dice che anche i clienti abituali della clinica di Mike visitino segretamente il centro di William. Non c'è più rispetto. Se continuiamo così, verremo schiacciati. Bisogna fare qualcosa. Prima che sia troppo tardi. È una questione a cui io e Mike dobbiamo pensare insieme. Lui è la prima priorità. Quindi non dirà di no. Mentre i suoi nemici pensavano a come sbarazzarsi di William, quest'ultimo stava raggiungendo nuove vette. Già all'età di 40 anni, William era diventato un simbolo regionale di successo e di attenzione per gli altri. Il suo esempio ispirò molte persone e dimostrò che si possono raggiungere vette incredibili se si va con fiducia verso il proprio obiettivo. In realtà, il segreto del successo di William era che non c'erano segreti. Era solo una persona molto determinata, che sapeva esattamente cosa voleva da questa vita e non aspettava che l'acqua scorresse sotto una pietra coricata. L'attenzione per gli altri gli è stata inculcata dalla nonna fin dall'infanzia. Fin da piccolo ha investito nel suo futuro, ha studiato duramente, ha ottenuto buoni voti, ha sviluppato capacità di leadership e ha sempre cercato di essere il migliore in quello che faceva. Persino la nonna si stupiva della diligenza del nipote. William, quando hai tempo per tutto, nemmeno io mi alzo così presto e vado a letto tardi. In questo modo ci si può ammalare. Nonna, tu stessa mi hai detto. Dio benedice chi si alza presto. E io dormirò abbastanza nella mia vecchiaia. Cosa c'è da stare sdraiati? Per riposare le gambe. Nessuno farà il mio lavoro al posto mio. E ho così tante cose da fare meglio. Ora dormo meno, ma poi potrò prendermi il mio tempo quando avrò realizzato tutto ciò che ho programmato. E qualsiasi cosa tu abbia pianificato per te stesso. Diventerò sicuramente una persona molto ricca e rispettata e per questo devo studiare e lavorare sodo. Non abbiamo nessuno che ci aiuti. Quindi dovrò fare tutto da solo. Sei così giovane che pensi già come un adulto. Ma Dio ti aiuti, nipote. Con l'aiuto di Dio riuscirai a fare tutto. Quando William Crabbe iniziò a lavorare per una grande azienda e fece rapidamente carriera. Era un dipendente responsabile e laborioso che cercava di raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, William non si limitava al lavoro. All'apice della sua carriera si rese conto che, lavorando per lo zio di qualcun altro, non sarebbe stato in grado di raggiungere tutti gli obiettivi previsti in breve tempo. È così che è nata la sua prima idea imprenditoriale. Mi dispiace, ma devo dare le dimissioni. Un giorno ho scioccato il mio capo. William, sei impazzito? Saltò su e giù dalla sedia. Lei è un top manager. Non può lasciare il lavoro di sua spontanea volontà. La concorrenza l'ha braccata. I cacciatori di teste ti hanno raggiunto. Quanto le hanno offerto? Le darò il doppio. Si calmi. Nessuno mi sta braccando. Me ne vado di mia iniziativa. Ho deciso di mettermi in proprio. Essere un dipendente è diventato troppo stretto per me. L'ho superato. Non è il mio stile. William, se tutti potessero avviare con successo un'attività da zero, saremmo circondati da Rockefeller e Rothschild. Ma questo non è successo né agli albori dell'imprenditoria, né oggi, mille anni dopo. Pensate davvero di essere migliori dei tanti che hanno fallito nel commercio o della maggior parte di quelli che stanno lottando per rimanere a galla? E siete disposti a sacrificare i risultati della vostra carriera? La fantomatica possibilità di diventare una rara eccezione alla regola. È meglio provare e pentirsi che rimpianghere di non aversi mai provato. O Ghiadesiso, non dissuadetemi. È inutile e non serve a nulla. Senta, può perdere il lavoro in due minuti, ma non la riporterò nella stessa posizione, con le stesse condizioni di retribuzione. Questo ti servirà da lezione. Quindi il mio consiglio è di non agitarsi troppo, di pensarci fino a domani. Il mattino è il mattino. Non volete prendervela con le vostre spalle e non volete tagliare l'arto su cui siete seduti. Non è saggio. C'è tutto il tempo per riflettere prima del mattino. Non riceverà mai più un'offerta così vantaggiosa. Le sto offrendo una paga doppia. Pensi alle cifre. La ringrazio, naturalmente, per l'offerta così generosa, ma ho già preso la mia decisione. Non cambi idea e mi benedica con un nuovo lavoro. Se le ho fatto un torto, mi dispiace, ma non cerchi di trattenermi. Me ne andrò con o senza la sua benedizione. E così iniziò lo sviluppo di William come imprenditore. Nel giro di un anno, William stava già muovendo i primi passi sicuri nell'imprenditoria. Non ha mai agito per capriccio. Ha sempre analizzato attentamente il mercato, le sue dinamiche e le sue tendenze. Un paio di anni dopo, l'uomo d'affari William divenne la voce della città. I rappresentanti delle autorità locali e regionali invitavano spesso William a vari eventi, compresa la consegna di un'altra lettera d'onore o di un diploma. C.A.O. William Sono Olivia, la direttrice del Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo Sociale della città. Alla fine di questo mese, premieremo i membri di spicco della nostra città per i loro servizi alla sfera sociale ed economica. Vorremmo invitarla sia come uomo d'affari di successo c'è come filantropo. Lei è stato insignito del premio del capo dell'amministrazione cittadina e si è distinto nella nomina per il contributo significativo alla creazione di condizioni per lo sviluppo a tutto tondo delle persone con disabilità nel campo del commercio. Le conviene visitare il nostro evento organizzato nella Casa della Cultura alle 15 del 30 e che giorno della settimana sarà. È sabato. L'ultimo sabato di questo mese non ho ancora programmato nulla, quindi potrò partecipare al vostro evento. Grazie per l'invito. Non vediamo l'ora di vederla. Saranno presenti i rappresentanti di diverse associazioni di beneficenza. Hanno una sorpresa per lei, quindi molte persone vorrebbero vederla lì. Cercherò di esserci. Non posso fare promesse perché i piani possono cambiare all'ultimo minuto. In azienda le cose succedono. E se la mia presenza personale non è richiesta con urgenza da nessuna parte, sarò sicuramente lì per le 15. William cercava il più possibile di prestare attenzione a tutte le organizzazioni e istituzioni che lo invitavano a eventi socialmente importanti. Anche se lui stesso non amava pubblicizzare la sua partecipazione alla beneficenza, perché credeva che si dovesse fare del bene in silenzio, senza aspettarsi pubblicità. Tuttavia, grazie al suo naturale tatto, non poteva rifiutare gli inviti. E così è stato anche questa volta. Nonostante la sua importanza sociale e la sua prosperità materiale, William non si vantava del suo status. Era aperto e semplice nella comunicazione. Anche nella vita quotidiana quest'uomo era molto modesto e senza pretese. Conoscendo il valore del denaro, non lo spendeva per l'immagine, per le cose costose e non cercava il lusso ostentato. Guglielmo comprendeva certamente che il denaro era un aspetto importante della vita moderna, ma non lo considerava una priorità assoluta. Molti amici e conoscenti di William, che guidavano costose autosportive per le strade della città, non lo capivano e periodicamente gli chiedevano, William, chi direbbe che sei un uomo d'affari di successo che possiede un'intera holding? Se non ti conoscessimo non avremmo mai pensato che tu avessi dei soldi. A volte sei una persona che strappa le lacrime. Non è una questione di soldi, Nicholas. Non è per i soldi, sono d'accordo. È per la quantità di soldi. Stiamo parlando di cose diverse. Non misuro la felicità in termini di quantità. E la qualità della felicità per me non è associata a nessun bene materiale. Tutto ciò che è materiale è un fenomeno temporaneo. È solo un mezzo di esistenza dell'attività, cioè uno strumento ausiliario. Ma le persone possono vivere in diverse condizioni, anche senza i benefici della civiltà moderna. Avete mai sentito parlare di tribù localizzate, di popoli senza contatto? Quali tribù? Viviamo nel XXI secolo. Tutte le tribù sono rimaste nella società primitiva. Sbagliato, amico mio. Si tratta di popoli che non hanno contatti con il mondo esterno e con la civiltà moderna. Oggi, ovviamente, sono rimasti pochi popoli di questo tipo, ma esistono ancora parallelamente a noi. Le informazioni su di loro provengono principalmente dai racconti dei popoli vicini, o, ad esempio, dall'analisi delle fotografie aeree. Ma supponiamo che questi pigmei vivano su un'isola dimenticata da Dio. E poi? Cosa c'entra con noi? Di cosa stavamo parlando? Perché cambiate argomento? Questi popoli hanno tutto a che fare con quello che sto cercando di spiegarvi. Non hanno alcun legame con la civiltà moderna. Cioè, non hanno automobili, né televisori, né elettrodomestici, né smartphone, né telefoni fissi. Ma vivono, si riproducono e si moltiplicano, si sviluppano a modo loro. Questo è il loro mondo locale e non cessano di esistere isolati dalla civiltà moderna a voi tanto cara. Continuo a non capire cosa centri tutto questo. Cosa ci importa del loro desiderio di non comunicare con il mondo civilizzato? La loro esistenza dimostra che l'importanza delle cose e i vantaghi della civiltà sono sopravvalutati. Non si può avere nulla di tutto siò. Si si può letteralmente coprire con una foglia di fico ed essere felici. Un uomo ha solo bisogno di mantenere la propria esistenza fisica, per la quale ha bisogno di acqua e cibo, ma non di piatti da ristorante, perché quella è golosità, bensì di qualsiasi fonte di calorie e di microelementi utili per mantenere l'energia e l'equilibrio vitaminico-minerale. Ecco perché non mi interessa con cosa mi riempio lo stomaco. E di certo non andrò nel ristorante più alla moda per il gusto di farlo. Perché, a parte i ponds, un tale desiderio non può essere logicamente spiegato da nient'altro. Quale dignità? Non vi rendete conto che il cibo di un ristorante costoso sarà completamente diverso da quello di un ristorante economico? In quest'ultimo caso si rischia di prendere qualche malattia. Ci sono topi e scarafaggi che girano per i tavoli. E non mi stupirei se fossero anche gli ingredienti segreti di una buona metà dei piatti cucinati lì. L'uomo, come qualsiasi animale, può adattarsi e sopravvivere in qualsiasi condizione, comprese quelle estreme. Se si punta alla sterilità costante, ovviamente il sistema immunitario non si svilupperà e ogni nuovo microbo sarà un disastro per l'uomo. E io sono cresciuto per strada. Ho mangiato verdure non lavate direttamente dal letto e bacche direttamente dai cespugli colte, piuttosto che prenderle dagli scaffali dei negozi. E come potete vedere, sono ancora vivo. E se siete abituati a sottoporre tutto a pretrattamento termico, allora, ovviamente, fare temeglio a non sperimentare con le verdure non lavate. Ma una cosa è scegliere tra frutta lavata e non lavata. Un'altra è credere che l'utilità di un piatto sia determinata dallo status e dal servizio costoso della mensa in cui è stato preparato. L'uomo d'affari William era quindi un esempio lampante di come si possa essere ricci e di successo, ma vivere con modestia e prendersi cura degli altri, trovando comunque il tempo per i propri hobby. La sua vita dimostrava chiaramente che la ricchezza non è fine a se stessa, ma deve essere finalizzata al bene della società nel suo complesso. Ma non tutti condividevano la sua filosofia di vita. Il suo vecchio amico Boris, ad esempio, gli chiedeva spesso «William, a cosa serve guadagnare così tanto denaro se non lo usi? Perché non lo uso? Il mio denaro sta lavorando per il bene della mia azienda e della mia comunità». Ok. Investire nello sviluppo della propria attività, negli investimenti e nel reddito passivo, posso capirlo. Ma dare via soldi che non si ottengono facilmente non lo capisco. Anche io, fratello, non sono al primo anno di attività imprenditoriale e non sono nato ieri. Quindi conosco le regole del business e le leggi della giungla di pietra. Pensi di fare un vero favore a qualcuno con le tue opere di carità? Gli stai facendo un vero e proprio favore da orso? Giustificatelo. Avete mai sentito la parabola del saggio e dei pescatori? No. Non ricordo. È questo il punto. Probabilmente non la conoscete. Ebbene, ascoltatela. Alla periferia di un villaggio di pescatori viveva un uomo saggio. Un giorno, un pescatore dello stesso villaggio andò da lui e gli chiese un po' di pesce perché la gente del villaggio stava morendo di fame. Il saggio rifiutò di dargli il pesce che aveva pescato. Il pescatore si stupì, dicendo che era molto per uno solo, ma era sufficiente per la gente per soddisfare la loro fame. Il saggio allora spiegò che non gli avrebbe dato il pesce, ma gli avrebbe dato la canna. La morale di questa parabola è che se si dà a un uomo un pesce, lo si sfamerà solo per un giorno. Ma se gli si dà una canna da pesca, sarà nutrito per tutta la vita. Ora usate il vostro pensiero associativo. Capite dove voglio arrivare. È così. Non do a tutti loro solo soldi perché, ad esempio, i genitori possono spenderli per se stessi o per alcune necessità generali della famiglia, mentre il bambino non riceverà nulla. Per questo motivo compro subito ciò di cui il bambino ha bisogno. Se i genitori di una famiglia numerosa non riescono a trovare un lavoro, e quindi la loro famiglia è in povertà, li aiuto a trovare un lavoro normale. Quindi, in sostanza, do alle persone le stesse canne da pesca, non solo i pesci. Ma anche in questo caso, lei sta comunque donando molto denaro che potrebbe lavorare per lei, e trarne beneficio. Quel denaro e ghi ha un beneficio per me. Vedo gli occhi felici di bambini e anziani. Sento parole di gratitudine quando li incontro. E per me questo è il miglior indicatore del fatto che il mio denaro funziona davvero, e mi porta beneficio. E non solo per me, ma anche per la società. E non è forse questo il senso dell'esistenza umana. Se una persona sa fare qualcosa meglio di un'altra ed è in grado di guadagnare rapidamente molto denaro, non significa che deve accumulare costantemente, e diventare ancora più ricca. Dove mettere poi questo denaro? In barattoli o altro? In barattoli. Ma non di vetro. Bensì svizzeri. Come tutte le persone normali. Ma la normalità è anche un consetto piuttosto astratto e soggettivo. Sì o che è normale per una persona può essere un ghioco completo per un'altra. Non per niente si dice che ciò che è buono per il russo è la morte per il tedesco. Andiamo, William. È inutile parlare con te di queste cose. Ti inventerai un milione di scuse e giustificazioni per il tuo atteggiamento sconsiderato nei confronti del denaro. Boris, perché stai contando i miei soldi? Non li prendo in prestito da te. Me li guadagno da solo. Quindi forse dovrei sapere come gestire le mie finanze. E lasciamo perdere l'argomento. Onestamente sono stufa. È la stessa cosa ogni mese. William ebbe conversazioni simili con molti uomini d'affari che conosceva. E nonostante il fatto che molti non condividessero il suo punto di vista, rimase comunque della sua opinione. Nel tempo libero William si dedicava allo sport, era appassionato di alpinismo e andava spesso in montagna. Ogni anno intraprendeva nuove escursioni, poiché non solo amava la natura e godeva della bellezza dei paesaggi montani, ma credeva anche che una vacanza così attiva lo aiutasse a mantenersi sano ed energico per il lavoro. Di solito si svegliava presto al mattino per prepararsi a una nuova escursione in montagna. Nel trambusto della città, gli mancava la sensazione di libertà che si prova scalando le montagne. William preparava le sue cose in automatico, portando con sé tutto il necessario. Tenda, sacco a pelo, cibo, acqua e attrezzatura alpinistica. Il più delle volte andava con un gruppo di compagni di cordata, ma a volte si arrampicava da solo. Si arrampicava lungo i sentieri di montagna, godendo della bellezza della natura circostante, vedendo foreste verdi, fiumi di montagna, laghi e cime maestose avvolte in una foschia blu. William si sentiva parte di questa natura e si godeva ogni momento del suo viaggio. William trascorse diversi giorni in montagna, superò molti ostacoli e cercò di raggiungere la cima di una delle montagne. Quando è tornato a casa, si è sentito pieno di energia e pronto per nuove sfide. L'alpinismo era un vero e proprio sfogo per William. È in montagna che si sentiva completamente distaccato dalla frenesia della vita, dalle decisioni amministrative e dalla routine quotidiana. E i suoi amici, anche qui, trovavano un motivo di sconcerto. Non ti capisco, perché sei sempre attratto da certe avventure estreme. Se ti manca l'adrenalina, potresti partecipare alle corse su strada con me. È lì che l'adrenalina si fa sentire. Boris, non vado in montagna per l'adrenalina. Le parole non possono spiegarlo. Invece di sentire mille parole, è meglio vederlo una volta. Vieni con me almeno una volta. Inizieremo dal livello principiante. Ti prometto che non ti porterò su percorsi difficili. Ci sono molte cose che non ho visto. Le montagne sono montagne. Se ho bisogno di andare in montagna, guarderò qualche programma televisivo o le recensioni dei blogger. Non ho bisogno di scalare le montagne di persona. Ma così non capirete mai quello che provo. Bisogna provarlo sulla propria pelle. Respirare l'aria rarefatta di montagna. Sentire come il vento ti sfiora il viso. Ascoltare il fruscio dell'erba e delle foglie degli alberi. Vedere come la natura si sveglia e si addormenta. Sulle pendici dei monti per incontrare le albe e i tramonti nella valle dei monti. Non sapevo che fossi così romantico, disse Boris ridendo. E William si convince ancora una volta che, a parte gli interessi comuni negli affari, non aveva nulla in comune con i suoi conoscenti. Durante una delle sue escursioni in montagna, William incontrò una ragazza di nome Mia. Era una persona davvero straordinaria. E non solo un'altra faccia saccente, che aveva già incontrato a centinaia sulla sua strada. Era l'incarnazione vivente del sogno di un poeta o di un artista. E William provò subito simpatia per lei. I suoi capelli erano del colore dell'oro. Il sole sembrava riversare i suoi raggi su di essi. Le scorrevano sulle spalle come onde e brillavano alla luce del giorno. Gli occhi di Mia erano profondi e blu come l'oceano. Guardavano il mondo con una saggezza e un amore tali che lui non riusciva a staccarne lo sguardo. Quando William li guardò, capì che si poteva annegare in quella piscina blu. Il suo sorriso era sincero e caldo. Quando la ragazza gli sorrise, William sentì il suo cuore palpitare. Era come un angelo sceso dal cielo per dare alle persone il vero amore. Mia non era solo bella, era meravigliosa. La sua bellezza non era solo esteriore, ma anche interiore. Era intelligente, istruita, gentile e premurosa. Mia era una delle poce persone in grado di fargli battere il cuore e di fargli tremare l'anima con un'eccitazione incomprensibile. William non riusciva a credere che una donna così bella potesse esistere nella realtà. Gli sembrava che fosse stata creata solo per lui, per illuminare la sua esistenza solitaria. si avvicinò a lei e parlò. La sua voce era insolitamente tranquilla e a tratti si spezzava per l'eccitazione. Salve, mi chiamo William. E tu sei? Ciao, io sono Mia. Piacere di conoscerti, William. Piacere di conoscerti, Mia. Vai spesso in campeggio? No, a dire il vero è la prima volta che lo faccio. Prima mi faceva un po' paura, ma la mia amica mi ha convinto. Erano già state con un gruppo alcune volte e le era piaciuto molto. E ora ha deciso di far conoscere anche a me questa bellezza. Partecipa spesso a viaggi di questo tipo. Da molto tempo vado sia in gruppo che da sola. Ora capisco perché non ti ho mai visto in un'escursione di gruppo. Sono fortunato che tu abbia deciso di unirti a questo gruppo. Avremmo potuto non vederci e non incontrarci mai. Che interessante scherzo del destino, non credi? Beh, la Terra è rotonda. Avremmo potuto incontrarci un giorno. Se era destino. Crede in Dio o nel destino. Non posso definirmi un vero credente, ma non nego completamente la possibilità dell'esistenza di forze superiori. Si tratta di Dio o di una sostanza intelligente. Nessuno lo sa. Se gli scienziati non sono ancora giunti a un'unica opinione in merito, allora come posso io? Un semplice mortale. Conoscere la risposta esatta a questa domanda che posso solo supporre. È un modo interessante di porre la questione. È la prima volta che sento una versione così originale. E io, mi creda, ho comunicato con un gran numero di persone, compresi scienziati e personaggi pubblici. Cosa ne pensa del trekking in sé? Condivide l'entusiasmo del suo amico. Non avrei mai pensato che fosse possibile fare una vacanza meravigliosa. Scalare le montagne. È una vista molto maestosa e molto tranquilla. Non ho mai provato niente di simile da nessun'altra parte. Le parole non possono trasmetterlo. Bisogna solo vederlo e sentirlo con tutta la pancia. Non c'è altro modo. Incredibilmente, questo è esattamente ciò che ho cercato di spiegare a uno dei miei conoscenti di recente, che non riusciva a capire perché mi piace fare escursioni in montagna. Ha appena ripetuto quello che ho detto. Beh, a quanto pare abbiamo pensieri simili. Mi hai semplicemente incuriosito. Pensavo che non avrei mai incontrato qualcuno che la pensasse come me su questo tema. Beh, tranne quelli che scalano da molto tempo, se non le dispiace. Posso suggerire di fare una passeggiata insieme. Lei mi piace molto. Il suo ragionamento è così vicino a me e allo stesso tempo insolito perché non l'ho mai sentito da nessuno prima. È come se tu esprimessi i miei stessi pensieri, anche se non li ho certo condivisi con te prima. Ed è improbabile che abbiamo conoscenze comuni che possano raccontarle le mie conclusioni. Mi scusi, sono troppo invadente. Forse la mia compagnia è un peso per lei. Non sia timido, parli, capirò. Che non mi metta minimamente in imbarazzo. Mi ha fatto anche piacere comunicare con persone che la pensano come me, soprattutto perché qui non conosco nessuno a parte i miei amici. E lei sembra aver trovato nuovi amici, lasciandomi in un'orgogliosa solitudine. Quindi accetterò la sua offerta di fare una passeggiata insieme. Perché no? Da quel momento in poi, durante l'escursione, William trascorre molto tempo con Mia e diventano buoni amici. Venne a sapere che Mia è impegnata come volontaria in vari progetti sociali. Così, durante le pause, hanno discusso dei diversi progetti in cui erano coinvolti e hanno condiviso le loro esperienze. Mia, in quali progetti sei stata coinvolta di recente? Forse ci siamo già incrociate in passato, ma per qualche motivo non ci siamo notate fino ad ora. L'ultima volta ho partecipato a un progetto ambientale, Clean City. Te lo ricordi? Certo che sì. I volontari raccoglievano i rifiuti per le strade del nostro quartiere, ma io mi limitavo a sponsorizzare Gli Eventi. Purtroppo non ho potuto partecipare personalmente perché saranno altri progetti in corso. Sì, sarà molta spazzatura, ma credo che il nostro lavoro sia stato vano perché dopo un mese c'erano di nuovo discariche abusive nelle strade. Pulire tutti quelli che non rispettano le regole di base è inutile. Credo che sia necessario un approccio diverso e sistematico. Un'azione, una tantum, non servirà a nulla. Sono d'accordo. Penso anche che, e per far sì che le persone apprezzino maggiormente la pulizia, un progetto non sia sufficiente. È necessario svolgere un lavoro educativo, introdurre misure amministrative, multe per il mancato rispetto del regime di pulizia. Sì, sono d'accordo con lei. Non possiamo fare a meno delle multe in questo campo. Purtroppo, la mentalità della popolazione è tale che è necessario usare abilmente sia il bastone che la carota. Non funziona in altro modo. E l'amore per la pulizia e l'ordine dovrebbe essere inculcato fin dall'infanzia, e persino dall'asilo, in modo che il bambino si faccia subito un'idea corretta del mondo circostante e della necessità di prendersi cura della nostra casa comune, il pianeta Terra. In quali altri ambiti siete stati coinvolti? Un paio di mesi fa abbiamo organizzato l'evento di beneficenza Aiuta il tuo vicino. Ricordo esattamente che i volontari hanno raccolto vestiti e cibo per i senza tetto. È vero. Sono stato molto contento che così tante persone abbiano risposto alla nostra richiesta di aiuto. Sì, è fantastico. Penso che progetti come questo siano molto importanti per la comunità. Sono assolutamente d'accordo. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Vorrei continuare a partecipare a progetti sociali anche in futuro. Non riesco nemmeno a immaginare la mia vita senza una partecipazione attiva nella società. Mi sembra che questa sia la mia missione karmica. Se ho tempo e opportunità perché non usarli a beneficio della società? Non pensate che stia dicendo sciocchezze? Molti dei miei conoscenti non mi capiscono e io mi vergogno persino di esprimere questi pensieri ad alta voce. Al contrario, lei sta esprimendo i miei pensieri e ancora una volta mi stupisco di quanto siamo simili. È come se mi stessi guardando allo specchio. Solo un riflesso. Un po' diverso all'esterno. Ma il tuo mondo interiore è identico al mio. E questo è semplicemente incredibile. Mia, sei una persona molto interessante. In tutta la mia vita non ho mai incontrato una donna i cui principi di vita siano così simili ai miei. Alla fine del viaggio, William si rese conto che Mia era la prima donna, dopo la sua ex moglie, con cui avrebbe potuto passare il resto della sua vita. Ma una brutta esperienza di relazione lo aveva scoraggiato dall'impegnarsi nel matrimonio. William decise di impegnarsi il più possibile negli affari e nel sociale per distrarsi dal pensiero di Mia. Tuttavia, l'incontro con questa ragazza non lo abbandonava. La ricordava spesso e pensava che ora gli mancavano le serate che avevano trascorso così bene insieme. Ma William aveva paura di iniziare una nuova relazione seria. Era già abituato alla sua solitudine e alle sue brevi relazioni. Con Mia voleva qualcosa di più, ma non poteva permettersi questo lusso. William ricordava di tanto in tanto come trascorressero insieme a Mia tutto il loro tempo libero, incontrando albe e tramonti e parlando della vita. Mia, io e te abbiamo discusso di tante cose, ma non smetto mai di stupirmi della tua saggezza. Mi fa piacere sentirlo. Sono anche molto interessato a parlare con te e sono molto felice di conoscerti. Di cosa vuole parlare oggi? Ho un'idea da discutere. Cosa ne pensa del senso della vita? È una domanda interessante. Personalmente credo che ognuno abbia il proprio senso della vita. Sono d'accordo. Penso che il senso della vita sia la ricerca della felicità e della realizzazione personale. E come definisse la felicità? Per me personalmente, la felicità è uno stato d'animo in cui ci si sente pieni di energia e di ispirazione. Può essere legata al raggiungimento di un obiettivo, alla cura di persone care o estranee, o semplicemente al godersi il momento. Sembra meraviglioso. Ma che dire del significato dell'essere? Questa è una domanda difficile. Alcune persone credono in Dio o in un potere superiore che dia un senso alla nostra esistenza. Altri credono che il senso sia lasciare un segno sulla terra o rendere il mondo un posto migliore. Sì, anch'io penso che sia importante fare del bene e aiutare gli altri. Può appagare e dare un senso alla nostra vita. Sono assolutamente d'accordo. Alla fine ognuno sceglie il proprio percorso e determina il proprio significato di essere. William sentiva che Mia era la sua metu, la sua anima gemella. William credeva che alcune persone fossero fatte apposta per stare insieme, per sempre. Ma per trovare l'anima gemella giusta, molte persone devono trascorrere una vita intera. William se ne andò, ma il suo cuore rimase con lei. Sapeva che lei era quella che avrebbe cambiato la sua vita per sempre, ma non era ancora pronto. Si scambiarono i numeri di telefono e si chiamavano periodicamente. Ehi, come va? Ciao William. Sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto benissimo. È un po' che non ti vedo. Cosa hai fatto in tutto questo tempo? Sono stato occupato con il lavoro e con progetti personali. E tu? Stessa cosa. Ho lavorato molto su vari progetti. A proposito, hai sentito parlare del nostro nuovo progetto sociale Green City? No, non ne ho sentito parlare. Me ne parli meglio? Certo. Green City è un progetto che mira a rendere più verde la città e a migliorare la situazione ambientale. Vogliamo piantare più alberi e arbusti, creare nuovi parchi e piazze e migliorare il sistema di riciclaggio dei rifiuti. Sembra interessante. Quali sono già i risultati? Ma per ora abbiamo appena iniziato a lavorare al progetto. Abbiamo messo insieme una squadra di volontari che pianteranno alberi e arbusti. Stiamo anche negoziando con le autorità locali l'assegnazione di terreni per nuovi parchi e piazze. È fantastico. Vorrei unirmi alla vostra squadra. È fantastico. Abbiamo bisogno di persone che vogliano rendere migliore la propria città. Quale ruolo le piacerebbe ricoprire? Posso aiutare a organizzare eventi legati al progetto o lavorare con il pubblico? Ok, passerò le sue informazioni al coordinatore del progetto. Si metterà in contatto con noi. Grazie. È stato un piacere parlare con lei. Ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Tuttavia, William non aveva fretta di avvicinarsi troppo alla ragazza che gli piaceva, perché aveva una brutta storia con la donna che voleva sposare. Quindici anni prima aveva conosciuto Alice, una splendida bionda dalle gambe lunghe e dall'aspetto da modella. Si innamorò perdutamente di lei e la sposò immediatamente. Alice sembrava la donna perfetta. Era bella, intelligente, affascinante, molto elegante e sempre impeccabile. Era una ragazza istruita e in grado di sostenere una conversazione su qualsiasi argomento. Ma con grande delusione di William, la gamma degli interessi di sua moglie era molto limitata. Le loro conversazioni quotidiane a tavola di solito si riducevano a quanto segue. Senti, ho scoperto le nuove tendenze della moda e volevo condividerle con te. Beh, parlamene. Se mi rifiuto di ascoltare, o litigheremo, o ignorerai il rifiuto e mi parlerai comunque dei tuoi nuovi articoli di moda supergettonati. È quello che fai sempre. Dici di sì e poi aggiungi qualcosa che mi fa passare la voglia di parlare con te. Va bene, non fare il broncio come un topo con la polenta. Parlami dei tuoi nuovi prodotti. Dei tuoi nuovi prodotti. Ti ascolto attentamente. Beh, prima di tutto, ora sono molto popolari i colori vivaci, soprattutto le tonalità neon. Uh, ho già immaginato come camminerete per casa, brillando come un insegna al neon. A quanto ho capito, dovreste assolutamente aggiungere il neon al vostro guardaroba. Stai di nuovo esagerando, ma hai ragione su una cosa. Certo che devo avere il neon nel mio guardaroba. Sei un uomo d'affari famoso, un personaggio pubblico, e io sono tua moglie. Sono io che mostro al resto del mondo il tuo status. La gente mi guarda e vede te. Sono il tuo biglietto da visita ambulante. Quindi devo stare al passo con le tendenze del momento. Ma se la guardi da questo punto di vista, hai ragione, naturalmente. Certo che ho ragione. Se non l'hai notato, ho sempre ragione. Anche se all'inizio non ve ne accorgete. Quindi, un'altra tendenza è l'uso di stampe, soprattutto animali e stampe geometriche. Sembra sexy. Qual è la vostra stampa preferita? Vuoi essere la mia pantera o la mia tigre? Qui hai centrato in pieno il problema. Adoro le stampe animalier. Soprattutto il leopardo. Ha sempre un aspetto lussuoso e attraente. Preferisco le stampe geometriche. Aiutano a creare un look moderno ed elegante. Lasciate che gli animali mantengano i loro colori animali. La natura ha dato loro questi colori per un motivo. Permettono loro di passare inosservati e di nascondersi con successo dai predatori. O al contrario, di stare in agguato, in attesa di una preda in agguato. Cosa farete con un abito leopardato? Cosa andrete a cacciare? Un'altra borsa di coccodrillo in boutique? William, sei di una noia insopportabile. Come puoi rovinarmi l'umore in cinque minuti? Sto solo cercando di fare due chiacchiere. Sei tu che l'hai voluto. E ora te la prendi. Continua con la tua storia. Come le astronavi che navigano intorno al teatro Bolshoi. Quali astronavi? Cosa c'entra il gran teatro? Non importa. Mi parli delle sue tendenze di moda. Un'altra tendenza sono le cose voluminose. Per esempio, maglie, giacche e abiti voluminosi. E si scopre che la felpa è un trend. Mi piace già questa tendenza. Indossate una felpa da lavoro e avrete un look elegante. Oh mio Dio, perché vengo punito in questo modo? Quale felpa? Di cosa sto parlando? Di cosa mi stai parlando? Mi stai solo prendendo in giro con la scusa di fare conversazione. Preferirei parlare con il muro. Almeno non farebbe battute stupide ogni volta che parla. Come puoi avere una mentalità così ristretta? Mi meraviglio di te. Non vuoi allargare i tuoi orizzonti. Sono io che sono limitato. Quindi pensi davvero che io debba conoscere la moda? E se non capisco le tendenze della moda, che cambiano ogni anno e sono molto astratte e soggettive, sarà un disastro. Suppongo che la mia riluttanza a istruirmi sull'argomento potrebbe scatenare la fine del mondo. Allora naturalmente, ho urgente bisogno di andare a fare un po' di coaching sulla nuova moda da un guru promosso dal mondo della moda. Non voglio essere responsabile dell'apocalisse e delle sue conseguenze. Voglio dire, andiamo. Che disastro. Perché non mi hai avvertito prima che il destino del mondo dipende da me? Queste cose dovrebbero essere avvertite in anticipo. Oh, andiamo. Sei proprio un pagliaccio. Non riesco a parlare seriamente con te di nulla. Alice mise il broncio sulle sue labbra già gonfie. Tirò su con orgoglio il naso cesellato e si allontanò, muovendo i fianchi, verso la sua camera da letto. In pochi minuti William la seguì. Si era riconciliato con la moglie, promettendole di comprarle tutte le stampe e le non stampe di cui aveva bisogno. Tranne che per piccoli disaccordi sulla moda. I primi due anni del loro matrimonio erano stati un paradiso in terra. William sembrava volare sulle ali dell'amore. Dopo un po', però, cominciò a notare cose strane. Alice cominciò a indugiare in vari eventi e a volte non tornava affatto a casa con il pretesto di passare la notte a casa di un'amica. Divenne riservata, chiusa in se stessa. Il marito cominciò a sospettare che qualcosa non andasse. Un giorno, seguendo Alice, la vide incontrare il suo autista. Si abbracciarono e si baciarono in macchina, proprio nel parcheggio, senza essere minimamente imbarazzati dai passanti. William rimase scioccato e non riusciva a credere ai suoi occhi. Un attacco di gelosia lo travolse. Corse verso l'auto in preda alla rabbia e cominciò a sbattere sul parabrezza, urlando tutte le parole cece conosceva su sua moglie e il suo amante. Alice scese dall'auto come se nulla fosse, aggiustandosi il vestito, proprio davanti al marito furioso. Alice, come hai potuto farmi questo? E a chi? Al mio autista. Proprio sotto il mio naso. William, so che sei scioccato ma sono felice che tu l'abbia scoperto. Sono stanca di nascondere i miei sentimenti. Ti rendi conto che hai rovinato il nostro matrimonio. È colpa tua. Non devi dare la colpa a me per tutto adesso. Sei stato via da casa tutto il giorno. Cosa dovrei fare? Mettere la porta di una stalla e aspettare tempi migliori? Ma ti rendi conto di quello che dici e a chi lo dici? È colpa mia se mi hai tradito. Non hai un briciolo di coscienza? Quando sei diventato così spodorato? O sei sempre stato così? Solo uno scioco acsecato dall'amore non se ne accorgerebbe. Pensa quello che vuoi, non mi interessa più. Non ti costringherò a sposarmi. La nostra relazione è ghia finita, quindi che senso ha vivere nella menzogna? L'unica cosa che posso offrirti è una relazione aperta. Gli psicologi lo chiamano matrimonio aperto. Sei fuori di testa? Ti rendi conto di cosa mi stai offrendo? Sei una persona immorale. Sono disgustata di conoscerti, per non parlare degli anni che ho sprecato con te. Dovrò disinfettare tutta la casa perché non è detto che tu non abbia portato i tuoi uomini nel nostro letto coniugale. Tesoro, so esattamente cosa sto dicendo. Non credo che tu capisca quello che sto dicendo. Ti sono stata infedele per molto tempo. Sei un uomo meraviglioso, ma fisicamente, energeticamente e psico-emotivamente mi manca la spinta. Purtroppo, tu non puoi darmela. Così ho dovuto cercare questi sentimenti da un'altra parte. Se non provavi questi sentimenti per me, perché mi hai sposato? Perché non mi hai detto che eri infelice? Che senso aveva questa farsa? Chiamata famiglia. Tu sei a posto con tutto il resto. E pensavo che la chimica tra noi sarebbe arrivata dopo. Ma mi sbagliavo. Alla fine hai iniziato a sparire giorno e notte, lavorando ai tuoi prossimi progetti. Sono una donna giovane e capricciosa con i miei bisogni fisiologici. Ho bisogno delle attenzioni di un uomo qui e ora, non nel futuro, in un orario prestabilito. Vorrei che non ti fossi mai messo sulla mia strada. Rispose con voce depressa. Era distrutto e deluso. Non riusciva a credere che la sua moglie perfetta si fosse rivelata un'imbrogliona. Fu un duro colpo per lui. E decise di divorziare. Ma le sue disavventure non finirono lì. Durante la procedura di divorzio, Alice cercò di soffocare la sua attività, che a quel tempo aveva già iniziato a prosperare. Solo buoni avvocati e conoscenze personali lo aiutarono a evitare la barbara divisione dell'impresa. Tuttavia, anche dopo il divorzio, l'ex moglie non ha abbandonato i tentativi di convincerlo a cedere volontariamente parte dell'azienda, ricorrendo a vari metodi, fino alle minacce e ai ricatti. Allora Maritino, ci incontriamo di nuovo. Parliamo. Non sono più tuo marito. Abbiamo avuto un annullamento. E ti è stato dato un certificato che lo prova. O l'hai dimenticato. Ho molte cose da fare e non ho nemmeno un minuto da dedicarti. È di questo che volevo parlarle. Dei nostri affari insieme. Di che affari si tratta? La nostra attività, che per qualche motivo pensi sia solo tua. L'ho costruita con le mie mani. Tu non centri niente. Ma ero tua moglie. Lo eri. E ora non lo sei più. Ma avevamo un accordo prematrimoniale che diceva che in caso di divorzio la proprietà sarebbe stata divisa a metà, contratto per contratto. Ma ci sono delle leggi. Lì, nell'ultimo paragrafo, si stabilisce che nella parte non regolata da questo contratto si applicano le norme generali del diritto di famiglia e del diritto civile, secondo le quali tutto ciò che è stato acquisito prima del matrimonio è di proprietà personale di colui che lo ha acquisito. E io ho iniziato l'attività prima che io e te ci sposassimo. Inoltre, il contratto prevedeva un elenco ristretto di beni e l'attività non ne faceva comunque parte. Ma l'hai sviluppata mentre eravamo sposati. L'ho sviluppata con i miei soldi, quelli che ho guadagnato prima di sposarci. Tu non mi hai dato quasi nulla. Hai investito tutti i tuoi soldi nella tua stupida attività. I regali si fanno solo in denaro. Se me lo avessi chiesto, ti avrei regalato una macchina o un appartamento. Ma tu non hai mai chiesto nulla. Con te andava tutto bene. Poiché mi fidavo di te, pensavo che stessimo insieme. Anch'io pensavo che stessimo insieme. Finché non ho scoperto che eravamo solo noi tre. Ma gli affari sono affari miei. Inoltre, hai violato l'accordo prematrimoniale, quindi non puoi invocarlo affatto. Se volevate rivendicare una proprietà acquisita in comune, avreste dovuto partecipare alla sua formazione. Probabilmente non ha letto affatto quella clausola. Quindi mi ha mentito? Non esattamente. Non le ho mentito, semplicemente non le ho detto tutta la verità. Ma lei sa leggere. Avresti potuto consultare un avvocato sul contratto quando l'hai firmato. Sei proprio un bastardo. Puoi insultarmi quanto vuoi. Sei fuori dagli affari. Ma no, non lascerò perdere. Troverò un buon avvocato e riapriremo il caso. Faccia pure. Avrete bisogno di avvocati. Dopo il divorzio, William decise di concentrarsi sulla sua attività e di non intraprendere mai più una relazione a lungo termine. Quando si rese conto che non esistono persone perfette, tutti hanno difeti e aspetti problematici del carattere. Alice gli fece costruire una barriera psicologica che gli impediva di avvicinarsi alle donne. Era come se per tutto questo tempo avesse indossato una corazza di ghiaccio, attraverso la quale nessuno riusciva a fare breccia. Tuttavia, l'incontro con Mia risvegliò in lui le emozioni che erano rimaste sopite per tutto questo tempo. Di tanto in tanto, gli occhi di William lampeggiavano con l'immagine di Mia, così luminosa e radiosa, che sembrava effimera, non una creatura terrena. Ma William scacciava i pensieri vaganti, seppellendo in profondità le piantine nascenti di un nuovo sentimento. Per quanto William cercasse di nascondere le sue emozioni, chi lo circondava cominciava a notare un notevole cambiamento. Ascolta, Nicholas, hai notato qualcosa di strano in William? Sì, è un uomo strano. Ecco perché non riesci a tenere traccia di tutte le sue stranezze. Qual è l'altra cosa che si è aggiunta? Sembra che il nostro comune conoscente sia innamorato. Dai, questa è la notizia. È scappato dalle donne come un dannato. Di chi potrebbe essere innamorato? A meno che non si tratti di un alieno o di una donna beata come lui. Non lo so per certo, ma è diverso. E come si manifesta? Si illumina al buio? Smettila di scherzare. Vi dico in tutta serietà che è cambiato molto, è distratto, è annebbiato, sorride molto, a un certo punto fissa. È davvero strano, soprattutto per William. Siete sicuri che si tratti di amore e non di una malattia? Forse la sua fiaschetta sta solo fischiando o qualcosa di peggio. Beh, non sono un medico, ma credo che si tratti almeno di una cotta, se non di amore. Per il resto non c'è niente di strano in lui a parte il solito. Sono curiosa. Dovrò tenerlo d'occhio. È più strano del solito William. Deve essere uno spettacolo. È così che William veniva descritto dai suoi amici. Mentre lui stesso ignorava ostinatamente la sensazione che provava nel suo cuore. Ma il destino volle che le cose andassero diversamente. Un evento fatale costrinse William a ripensare alla sua vita e a rivedere le sue priorità. Durante un'altra escursione William rischiò di morire cadendo da un dirupo. I medici passarono l'intera notte a stregarlo, raccogliendo la sua gamba rotta. È l'unica cosa che si è ferito seriamente nella caduta. A parte questo, ha solo graffi e lividi. Più un trauma cranico chiuso. Anche i paramedici stessi si sono meravigliati della fortuna del paziente, vista l'altezza della caduta. William, oggi sei nato per la seconda volta. È la prima volta nel nostro studio che un uomo cade da un'altezza simile e se la cava con un paio di fratture, contusioni e un leggero spavento. Ammettilo, hai qualche tecnica speciale per cadere correttamente. Riesce come un gatto ad atterrare sempre su dei cuscinetti. No, mi limito ad agitare attivamente le braccia e a spingere la coda, rispose William con una risata. Che tipo di tecniche possono esserci? Era solo fortuna. C'erano molti cespugli e mi ci aggrappavo mentre cadevo. Hanno rallentato la mia velocità e attutito la caduta. Beh, salvare un caduto, come salvare un uomo che sta annegando, dipende da chi cade. Beh, credo che si possa dire così. Questa volta andò tutto bene, ma l'incidente sembrò aver risvegliato William da un sonno profondo. William era sempre stato un uomo che viveva la vita al massimo, che amava il rischio, l'adrenalina. E la sua vita era piena di avventure. Trovandosi tra la vita e la morte, ha subito un vero e proprio shock e si è reso conto che prima aveva vissuto in modo troppo imprudente e sconsiderato. e mentre lui rifletteva sul tema filosofico dell'esistenza, all'altro capo della città si discuteva di questioni altrettanto pressanti. Sam, hai detto che non ci saranno errori di accensione. Che cosa significa? Alex mi ha assicurato che tutto sarà fatto nel miglior modo possibile. Nessun errore di tiro. Non so cosa sia successo. Anch'io sono in trans. Ti rendi conto che abbiamo dato un sacco di soldi e non abbiamo ricevuto nulla. Siamo stati fregati. Siamo rimasti senza risultati e senza soldi. E questo è doppiamente frustrante. Alex, parli come se io dessi ordini alla gente ogni giorno. Non viviamo negli anni 90. Nessuno lo fa più. Ti avevo detto che era una pessima idea fin dall'inizio. Avremmo dovuto mandargli addosso il fisco. Dipartimento di sicurezza economica e anticorruzione. Con un'attività come quella di William c'è sempre una fregatura. No. Volevi solo farlo alla vecchia maniera, vero? Beh, ecco fatto. Dovresti essere grato che qualcuno sia stato disposto ad accettare. Ovviamente sono dei dilettanti, quindi non sono riusciti ad andare fino in fondo. O forse è stata solo una coincidenza. Noi non eravamo lì, quindi non possiamo dire con certezza cosa sia successo. Dovremo scoprire di più. Ma dobbiamo farlo nel modo più discreto possibile per non attirare l'attenzione su di noi. Non vogliamo che la polizia ci segua. Allora finiremo per metterci nei guai a nostre spese. Quel William è nato con la camicia di fuori. Non mi sorprenderebbe se avesse nove vite, come un gatto. E ora ne ha appena consumata una. Va bene allora. Quel che è fatto è fatto. Dobbiamo tutti abbassare la cresta e restare bassi per un po'. Dite ai dirigenti di fare lo stesso. Dite loro di andare in un posto lontano per un po'. Possiamo scoprire tutto più tardi. Se iniziamo a ficcanasare adesso, attireremo l'attenzione. E poi, quando le cose si calmeranno, sarà molto più facile farlo in silenzio. Lei conosce molte persone in città. Sono d'accordo. È quello che faremo. Non c'è bisogno di fare una mossa adesso. La fretta è necessaria solo quando si catturano le pulci. William non sospettava nemmeno che la corda rotta non fosse una coincidenza, ma un piano insidioso e attentamente studiato dai suoi concorrenti. Ma William si rese conto che era una benedizione sotto mentite spoglie. Ma una benedizione sotto mentite spoglie. Si rese conto che non aveva prestato la giusta attenzione alla famiglia e agli amici, e che le sue linee guida di vita non erano del tutto corrette. Si rese anche conto che la vita era troppo breve per sprecarla in cose che non lo appagavano. William decise che avrebbe iniziato a godersi ogni momento del qui e ora, perché forse non ci sarà un domani. L'incidente che gli è quasi costato la vita è stato un punto di svolta per William. Pertanto, dopo essere tornato dalla clinica, decise di trovare Mia. Il telefono che usavano per comunicare tra loro non rispondeva per qualche motivo. William iniziò a cercare la ragazza sui social network e attraverso amici comuni, ma non sapevano dove fosse. Ma William non si arrese e continuò a cercare. Un giorno, navigando in internet, si è imbattuto in una comunità di volontari in cui Mia partecipava attivamente. William fu molto felice di questa scoperta e la contattò immediatamente. Ciao Mia, è passato un po' di tempo. Come stai? Ciao William, è bello sentirti. Sto bene. Grazie. Come stai? E tu come stai? Sto benissimo. Grazie. Anche per me è un piacere sentirti. Anche per me è un piacere sentirti. Come hai avuto il mio nuovo numero? Mi sono appena ricordato di non averti detto che l'ho cambiato. Ti ho trovato nella comunità dei volontari. Ricordi quando abbiamo fatto quell'escursione in montagna sei mesi fa? Allora mi hai detto che eri nella comunità dei volontari. Sì, certo che me lo ricordo. È stato fantastico. Abbiamo riso tanto. Abbiamo discusso di tanti argomenti. Non credo di aver mai parlato con qualcuno in tutta la mia vita quanto ho fatto con te in quel campeggio. È stato sicuramente molto divertente. Ripenso spesso a quei giorni e mi sono reso conto che mi mancava uscire con te. Mi hai appassionato alle nostre conversazioni filosofiche e devo averne sviluppato una dipendenza. Ho provato a cercare un sostituto ma non ho trovato nulla. Ricordo anche le nostre serate filosofiche. È stata un'esperienza indimenticabile. Non ho mai avuto niente di simile con altri uomini. Di solito preferiscono non parlare di queste cose con le donne. Ma tu mi hai sorpreso. Mi hai parlato da pari a pari. Nemmeno una volta hai accennato al sessismo o alla disuguaglianza sociale. Grazie. Mi fa molto piacere sentirlo. Senti, volevo chiederti di uscire. Che ne dici? Non lo so. Ho un'agenda molto fitta al momento. Sono impegnato con il lavoro e i programmi sociali. Faccio ancora volontariato. Anche lì c'è molto lavoro da fare. Capisco. Allora perché non ci incontriamo da qualche parte per un caffè? Dove lo prende di solito? Dimmi un posto e un'ora qualsiasi. Verrò in macchina. Solo, per favore, non dire subito di no. Beh, dammi solo la minima possibilità di rivederti. Non posso promettere che funzionerà, ma proviamo. Per esempio, sabato mattina alla caffetteria all'angolo di Spring Street alle 10 del mattino. Andrebbe bene per te? Bene, hai capito. Ma ci vediamo sabato? Ok, sabato. Sabato mattina. William non vedeva l'ora che arrivasse l'appuntamento. Gli sembrava che il tempo si fosse fermato e che le lancette dell'orologio avessero smesso di muoversi. Non riusciva a staccare gli occhi dal quadrante dello smartphone a causa dello stress psicologico. Per questo motivo non si accorse nemmeno di come Mia si avvicinò al suo tavolo. Per la sorpresa, William non si rese nemmeno subito conto che la ragazza che aveva aspettato così a lungo e con impazienza era già venuta a incontrarlo. William, ciao, stai bene? Sembri strano. Oh, scusami, stavo solo pensando. Ehi, siediti. Che tipo di caffè vuoi? Quello che vuoi. Quello che ordini per te, lo prendo per me. No, non va bene. E se io e te non abbiamo gli stessi gusti e finisci per soffocare con un caffè in sapore? Dai, dimmi cosa ti piace e scegli un dolce. Ok, io prendo un caffè latte con sciroppo d'acero. Io prendo un croissant al cioccolato come dessert. Ottima scelta. Io prendo un americano e un brownie. Ecco un altro punto di intersezione. Il cioccolato. Non mi piacciono i dessert dolci e zuccherati. Preferisco un po' di amarezza o di asprezza. Cosa le piace? Non mi piace il troppo dolce, ma nemmeno il troppo amaro. Preferisco un sapore equilibrato. Posso ad esempio integrare il dolce con l'amaro o l'acido e ottenere il sapore che cerco. Le piace sperimentare con il cibo? Credo di sì. Mi piace provare cose nuove. E il cibo non fa eccezione. E quando è sempre lo stesso c'è sempre il rischio che prima o poi ci sia noi. Almeno una volta ogni tanto ci vuole un po' di varietà, anche nel cibo. Ma non mi definirei un gourmet o un amante del cibo in linea di principio. Se è necessario, me la cavo abbastanza bene con un minimo di prodotti. Non sono particolarmente esigente, ma in questo siamo simili. I miei amici non capiscono perché non vado in ristoranti costosi e preferisco mangiare a casa o in bar di livello medio. Dopo l'incontro di sabato William si convinse dei suoi sentimenti e dopo un paio di appuntamenti chiese a Mia di uscire con lui. Da quel momento i due giovani trascorrono molto tempo insieme. Camminavano per la città, partecipavano a vari eventi e si godevano la reciproca compagnia. E tutto andava bene se non fosse stato per un grande ma. I problemi psicologici che in seguito si trasformarono in complessi e fobie complicarono notevolmente la vita personale di William. Si aspettava sempre una fregatura e non riusciva a liberarsi dalla sensazione ossessiva di un'altra tragedia in arrivo. Alla fine William decise di rivolgersi a uno psicologo per guarire dalla paura di questa nuova relazione. Salve! Vorrei affrontare il mio problema psicologico. Non riesco ad affrontarlo da solo. Ho provato di tutto. Niente mi aiuta. Alla fine venire da lei è un passo di disperazione. Se lei non può aiutarmi non so cos'altro fare. Lei è la mia unica speranza. Certo che ti ascolto. La aiuterò in ogni modo possibile. Ma deve essere il più onesto possibile con me. Come in un confessionale devi dire le cose come stanno senza nascondere nulla. Dal grado di sincerità dipende il risultato finale. Più siete sinceri maggiori sono le possibilità di risolvere il problema con successo. Capisco il suo punto di vista e cercherò di essere il più sincero possibile. Il fatto è che qualche anno fa ero sposato come pensavo con la donna più bella del mondo ma lei mi ha tradito e lo ha fatto cinicamente sotto il mio naso con il mio autista. Ora non riesco a fidarmi delle donne. L'ex coniuge mi ha come respinto ogni desiderio di creare un nuovo rapporto forte con l'altro sesso e ora ho conosciuto una ragazza molto brava ma ho molta paura che tutto vada nello stesso modo. Ho costantemente una sensazione strana e spiacevole come se stesse per accadere qualcosa di brutto e non riesco a liberarmi di queste paure e preoccupazioni mi sto torturando. Mi rendo conto che è stupido ma non riesco a farne a meno. È una cosa che va al di là di me. Forse ho dei veri problemi psichiatrici. Sì è davvero spiacevole. Capisco come si sente ma è importante ricordare che non tutti sono uguali. Ognuno è unico. Ognuno ha le proprie peculiarità psicologiche che influenzano la percezione della realtà e il comportamento. Di conseguenza lei sua moglie e la sua nuova ragazza siete persone completamente diverse. In linea di massima non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Se ne rende conto? Sì me ne rendo conto ma non posso farci niente. Come posso ricominciare a fidarmi di una donna? È da molto tempo che non permetto a nessuno di avvicinarsi a me. Ho avuto solo relazioni fugaci e non impegnative. E ora vorrei passare a un'altra fase ma non posso. Non ci riesco. E questo mi sta logorando ancora di più. Non riesco nemmeno più a dormire bene la notte. Ho pensieri intrusivi che mi tengono sveglia tutto il giorno. E quando sono sola con me stessa la situazione peggiora. Centinaia di pensieri che brulicano come mosche ronzando nella mia testa sussurrano cose senza senso. Cerco di scacciarli di rilassarmi di astrarmi ma niente mi aiuta. Si placano solo per un po' poi tornano e ronzano ancora più forte. Penso di essere impazzita ma il primo passo è rendersi conto di ciò che è successo e poi bisogna lasciarsi andare. Devi accettare i tuoi sentimenti e le tue preoccupazioni e capire che il problema non è la nuova ragazza ma la tua percezione della realtà. Siete bloccati sul vecchio problema e lo rivivete continuamente invece di lasciarlo andare e andare avanti. Quindi cosa devo fare? Come posso liberarmi dei pensieri intrusivi se continuano a perseguitarmi? Lasciare andare. Se non lo fai da solo nessun altro può aiutarti. È tutto nella vostra testa. Sei tu che trasferisci i vecchi scenari nelle nuove relazioni. Anche se si tratta di persone completamente diverse di situazioni diverse e di circostanze nuove smettete di misurare tutti con lo stesso metro. Iniziate finalmente a vivere con una tabula rasa almeno per quanto riguarda le relazioni con l'altro sesso. Una nuova relazione è un nuovo capitolo del vostro libro. Non avete intenzione di riprendere la trama di un vecchio capitolo vero? Beh credo di sapere di cosa sta parlando. Grazie mille. Lo psicologo aiutò William a capire che le sue paure erano legate solo a un episodio particolare che non poteva essere proiettato sul resto della sua vita e sulle altre relazioni perché non avevano nulla a che fare l'una con l'altra. William iniziò a lavorare su se stesso e gradualmente si liberò delle sue ossessioni. Era felice e grato allo psicologo per il suo aiuto perché con il suo aiuto poteva finalmente rendersi conto che le sue paure erano solo un'illusione che aveva creato e alimentato per tutto questo tempo e ora doveva uccidere il mostro che il suo subconscio aveva creato. Naturalmente la paura della perdita potrebbe avere radici psicologiche più profonde. Dopo la morte dei genitori William era stato allevato ed educato dalla nonna Molly. Era l'unico figlio dell'unica figlia e così la donna aveva fatto del suo meglio per sostituire entrambi i genitori dandogli tutto il suo amore non speso senza lasciare traccia. William era un ragazzo intelligente e laborioso. Aiutava la nonna in casa studiava a scuola e sognava di diventare un uomo ricco e di successo. Una volta cresciuto andò in città per ricevere un'istruzione e trovare un lavoro. William era molto grato alla nonna per tutto quello che faceva per lui. Si rendeva conto che senza le sue cure e il suo amore non sarebbe diventato l'uomo che è ora. L'anziana donna rifiutò di trasferirsi in città con il nipote quando questi divenne ricco e rimase nel suo villaggio ma William le faceva visita mensilmente portandole cibo medicine prodotti chimici per la casa. Ciao nonna più grande del mondo come stai? Ciao nipote grazie sto bene e tu? Anch'io sto bene sono solo venuta a trovarti è bello è sempre bello vederti hai cambiato idea sul trasferimento in città mi sento così sola senza di te grazie William ma no sono vecchia sarebbe difficile per me abituarmi alla città preferisco restare qui in campagna qui l'aria è più pulita e le persone sono più gentili con meno auto e poi ci sono i programmi televisivi quello che succede c'è qualche virus terribile in giro qualche altro contagio no qui mi sento più al sicuro e come posso lasciare il mio villaggio dove ho vissuto tutta la vita a chi lascerò la mia mucca il mio sostentamento e dove lascerò i miei uccelli o vaioli non li lascerò andare sotto i ferri vivremo la nostra vita qui in qualche modo va bene nonna se è così che vuoi non insisterò William si rese conto che la nonna era anziana e che sarebbe stato difficile per lei trasferirsi decise quindi che sarebbe andato a trovarla regolarmente e l'avrebbe aiutata nelle faccende domestiche Molly era felicissima delle sue visite e le aspettava sempre con ansia passarono così diversi anni Vladislav continuava a lavorare in città e la nonna viveva nel suo villaggio comunicavano regolarmente per telefono e William era sempre interessato alla sua salute e alle sue esigenze questa volta come di consueto Guglielmo decise di andare a trovare la vecchia nonna una donna saggia che ne aveva passate tante ai suoi tempi e che lui amava molto nonna ciao come stai vecchia mia chiese il nipote che arrivò con una pila di regali ho una notizia per te beh raccontami probabilmente si tratta di un'altra idea commerciale o sta cercando di nuovo di aiutare qualcuno non hai già abbastanza da fare no questa volta non ha nulla a che fare con gli affari o la beneficenza è un miracolo in quale foresta è morto qualcuno che hai deciso di parlarmi di qualcos'altro per una volta cosa c'entra questo oh ho conosciuto una ragazza grazie al cielo sono sopravvissuto fino a quest'ora chi è una bella ragazza quando ce la presenterai nonna è una brava ragazza ma dopo Alice ho paura di una relazione seria anche a me Alice sembrava simpatica all'inizio sai quanto le volevo bene è vero nipote non per niente si dice che se sei stato bruciato dal latte soffierai sull'acqua e così è ma questo non significa che l'acqua bruci come il latte dovresti conoscere la differenza sei un ragazzo grande sì mi rendo conto che le situazioni possono essere diverse ma non riesco ancora a liberarmi dei miei dubbi e delle mie paure William c'è un modo sicuro per mettere alla prova la tua anima gemella portala nel mio villaggio e falla restare per un po' mi occuperò io dei preparativi e qual è questo metodo e questo nipote è il segreto di una donna Molly sorrise sorniona il tuo compito è quello di portare la tua fidanzata da me con un pretesto e poi risolverò tutto da sola nonna mi incuriosisci non so bene cosa intendiate ma cercherò di soddisfare la vostra richiesta per favore puoi dirmi in dettaglio cosa vuoi che faccia beh nipote tu sai come avviare un'attività ma quando porti la tua ragazza al villaggio da sua nonna hai bisogno di aiuto non puoi farcela da solo dille che ho deciso di conoscerla meglio ma non posso venire nella tua città quindi voglio che tu la porti nel mio villaggio per farla stare sono sicura che si troverà bene qui e che potremo conoscerci meglio nonna capisco che tu voglia conoscere la mia ragazza e capire cosa vuoi fare ma come posso farlo non posso semplicemente dirle che voglio portarla al villaggio per farla conoscere mi sembra strano e sospetto non siamo abbastanza vicini a lei per avere un incontro con la famiglia beh nipote sei un ragazzo intelligente pensa a qualcosa forse potresti dirle che vuoi passare un fine settimana in campagna per allontanarti dalla frenesia della città e poi quando arrivi lì posso offrirle di restare per qualche giorno così possiamo passare del tempo insieme nonna mi sembra un buon piano cercherò di pensare a qualcosa di parlarle ma non posso promettere che sarà d'accordo non preoccuparti nipote sono sicura che lo farà devi solo provarci ti aspetto qui William lasciò la casa della nonna pensando ma anche la nonna gli aveva posto un problema se ne parlasse a mia potrebbe spiattellare mia nonna vuole metterti alla prova e se dicesse semplicemente che vuole venire a trovarci cosa succederebbe e se mia dicesse di no voglio dire lei non conosce nemmeno mia nonna ma potremmo portarla con noi e conoscerla e poi e all'improvviso gli venne un'idea brillante direbbe che sua nonna ha bisogno di aiuto e cominciò a inventare una storia man mano che procedeva e telefonò a una mia eccitata ciao tesoro come stai cosa fai questo fine settimana ciao il solito non ho ancora pensato al fine settimana perché c'è un suggerimento mia ricordi che ti ho parlato di mia nonna molly al villaggio sì me lo ricordo ho avuto un esaurimento la nonna è malata non vuole estranei intorno e io devo partire per lavoro non ho tempo di cercare una badante adatta e la nonna non accetta nessuno forse lei sarebbe disposta ad aiutarmi William attese senza fiato la risposta di mia era un ottimo modo per conoscere meglio il suo carattere dopo tutto una persona veramente gentile sarebbe sicuramente d'accordo ma se aiuto gli estranei non posso aiutare il mio ragazzo e la sua famiglia certo che posso allora vengo a prenderti venerdì sera è un accordo sì certo vieni pure come promesso il venerdì dopo la giornata lavorativa William andò a casa di mia la ragazza lo stava già aspettando sulla panchina con la sua borsa da viaggio guardando nervosamente l'orologio senza fermarsi partirono subito la strada era lunga e piuttosto faticosa mia fissava fuori dal finestrino pensando a ciò che li aspettava finalmente arrivarono al villaggio William fermò l'auto davanti a una piccola casa circondata da un giardino la ragazza scese dall'auto e si guardò intorno il posto era tranquillo pacifico l'aria era fresca e pulita William aprì la porta e invitò la ragazza a entrare la casa era accogliente e calda c'erano fiori in cucina e prodotti da forno freschi sul tavolo presto Molly uscì per raggiungerli era una donna anziana e smilza con gli occhi sbiaditi dal tempo ma ancora pieni di gioia alla vista del nipote e della sua sposa l'anziana donna fu molto felice di vederli e Mia avendo conosciuto la nonna di William accettò di buon grado di rimanere a prendersi cura di lei William se ne andò con un po' di ansia nel cuore lasciando i due da soli ben sapendo che sarebbe stato molto preoccupato ma si fidava della nonna quindi capì che Mia era in mani sicure la bambina conobbe meglio la nonna e trovò subito un linguaggio comune con lei Mia la aiutava in casa cucinava i pasti si occupava del giardino e dell'orto oh figlia sono stanca di questo giardino i pomodori non arrossiscono i cetrioli non crescono le cipolle sono tutte in frecce sì Molly è difficile senza la forza di un uomo forse William potrebbe aiutarci a che serve? viene una volta al mese si siede sul tuo orecchio e poi se ne va non ha tempo è stanco non so cosa fare mio nonno pace all'anima sua faceva tutto da solo non si affidava a nessuno che ne sarà di lui? va tutto bene Molly ce la faremo ora posso diserbare le aiuole e stasera taglieremo un po' di legna da ardere per renderti le cose più facili ora riposa grazie figlia mia vorrei che qualcuno insegnasse al mio William a lavorare allo stesso modo perché non sa nemmeno riparare una staccionata l'anziana donna era davvero grata a mia per il suo aiuto e le sue cure passarono così alcuni giorni la ragazza si abituò alla sua nuova vita nel villaggio e le piaceva anche questo piccolo angolo di natura passava il tempo con la nonna di William passeggiava per il quartiere si godeva il fascino della vita in campagna Molly si rivelò una donna straordinaria non le si poteva mettere un dito in bocca perché poteva staccarsi il braccio dalla spalla sopravvisse alla guerra e alle repressioni di Stalin perse il marito nei campi di concentramento e perse il figlio le rimase solo il nipote ricordava la prima volta che aveva visto suo nipote era 40 anni fa quando l'URSS stava attraversando un periodo di stagnazione Molly era tornata a casa da un viaggio in Bielorussia e ad attenderla c'era un piccolo orfano il figlio del figlio morto non riusciva a credere che quella creatura minuscola e indifesa fosse suo nipote e che il peso della responsabilità per lui gravasse interamente sulle sue spalle col passare del tempo Molly allevò il nipote come se fosse suo figlio gli insegnò tutto ciò che sapeva su come cucinare lavare pulire gli disse quanto fosse importante essere una persona onesta e gentile ma la vita non fu sempre facile per loro Molly lavorava come lattaia in una fattoria collettiva e dopo il crollo dell'URSS l'azienda fu privatizzata e passò nelle mani di qualcuno i Colcoz furono riorganizzati e le loro terre furono distribuite tra i nuovi proprietari per fornire al nipote tutto il necessario la donna accettò un lavoro come autista di autonavetta insieme a un amico portava i beni di consumo dall'estero viaggiava nei paesi in cui erano disponibili in grandi quantità a prezzi accessibili e poi li vendeva in modo sicuro a un prezzo speculativo Lubo Vivanovna ricordava spesso questa parte della sua vita quando incontrava i suoi ex compagni oh May ti ricordi come eravamo commercianti di navette negli anni 90 eravamo così impegnati allora ricordo che portavamo vestiti dalla Cina dal Vietnam dalla Corea dalla Polonia dalla Turchia sì Molly è vero portavamo ogni sorta di vestiti scarpe giocattoli e cibo oggi i negozi sono pieni di tutto ma allora dovevamo procurarci tutto da soli si ricorda di un viaggio in Cina come erano i mercati lì ricordo ancora il rumore la folla di persone i venditori che gridavano in tutte le lingue del mondo ma già allora guadagnavamo bene ricordo anche il viaggio in Turchia anche lì c'erano molte merci interessanti ma le condizioni erano molto diverse dovevamo vivere in un albergo senza servizi e mangiare quello che compravamo da soli ma ce la siamo cavata sì è stato difficile ma siamo sopravvissuti ora guardo a questi momenti con un sorriso e con gratitudine perché grazie a questa esperienza ho imparato molto a essere pieno di risorse intraprendente a trovare una via d'uscita da qualsiasi situazione avete ragione questa esperienza ci è stata molto utile nella vita ora possiamo dire con certezza di essere passati attraverso il fuoco l'acqua e i tubi di rame è vero ciò che non ci uccide ci rende più forti la bambina cercava di non mostrare al nipote la sua fatica e il suo dolore ma a volte le venivano ancora le lacrime agli occhi tuttavia nonostante le difficoltà Molly non si arrese credeva che suo nipote sarebbe diventato un uomo buono e sarebbe stato orgoglioso di lei e dopo molti anni il nipote di Molly è diventato un uomo adulto oggi è un uomo d'affari di successo che si regge sulle proprie gambe e aiuta non solo la città ma anche la regione Molly era felice sapeva che la sua vita non era stata vana perché aveva cresciuto un uomo valido la nonna di William aveva già la rispettabile età di 80 anni ma l'anziana donna era ancora un po' irascibile e andava nei boschi da sola a sbrigare le sue faccende stamattina lei e mia sono uscite presto per andare nel bosco vieni mia andiamo a raccogliere le bacche vieni Molly che tipo di funghi raccoglieremo di tutti i tipi il porcino è il fungo più pregiato e poi ci sono i funghi di pioppo i funghi di pioppo i funghi i finferli i finferli che tipo di bacche vi servono tutto ciò che può essere essiccato o utilizzato per composte e marmellate e non vi avvelenerete cosa sono quelle belle bacche rosse sono bacche di lupo non è consigliabile mangiarle sono velenose non si dovrebbe fare la marmellata con le bacche di lupo ma gli stregoni locali le usano per fare pozioni dicono che possono persino curare il cancro qui sono molto diffuse le tinture dei suoi unguenti per i reumatismi e ogni tipo di malattia della pelle perché si chiamano ossa di lupo chi lo sa forse perché i lupi le mangiano chi lo sa o forse perché bisogna diffidare di queste bacche come dei lupi cosa sono quei funghi laggiù sono ribes si possono mangiare anche crudi da qui il nome e quei funghi verdi laggiù sono commestibili no sono cicerchie non si chiamerebbe così un buon fungo è una parola per definirlo cosa sono quelle bacche arancioni credo di averne già vista una certo che le hai viste è olivello spinoso molto gustoso e salutare si fa un'ottima marmellata si vede che vieni dalla città le donne camminarono lungo il sentiero godendosi l'aria fresca e il canto degli uccelli nel bosco trovarono diversi cespoli di bacche su cui erano ghiappe se bacche mature l'anziana donna le raccolse con cura mettendole nel suo cestino e mia si guardò intorno affascinata in questo modo trascorsero un po' di tempo nonna molly raccoglieva le bacche e mia la aiutava diligentemente molly non ricordava nemmeno l'ultima volta che era stata malata ma ora per la prima volta dopo anni doveva fingere di essere malata per continuare a recitare oh ho un po' di malessere non so da quale dottore andare mi fa male tutto sono un po' a pezzi molly cosa ti fa male esattamente hai bisogno di misurare la pressione sanguigna hai un misuratore di pressione in casa ragazza mia puoi chiamarmi nonna l'ultima volta che il presidente della nostra fattoria statale mi ha chiamato così è stato quando mi ha rimproverato per la scarsa produzione di latte quando me lo ricordo rabbrividisco i suoi baffi si agitano i suoi occhi scintillano luccicano spruzzano saliva dovrebbe essere in un circo con le tigri nell'arena quanto era spaventoso tutti avevano paura di lui terribile e lo vedevo muovere i baffi ridevo così tanto gridava con i piedi e sbatteva i pugni sul tavolo rosso come un pomodoro per la rabbia e io rido più forte che mai vedo che ha avuto una vita divertente sì mia ho avuto molte cose belle e brutte nella mia vita ma non posso lamentarmi del destino ho un nipote ho perso mio figlio e mia nuora ma mi hanno dato un nipote un ragazzo così vale cento altri io sono come un muro di pietra dietro di lui quando era piccolo lo sollevavo lo mettevo in piedi appena le sue gambe si rafforzavano mi aiutava non aveva paura di nessun lavoro si occupava del bestiame tagliava l'erba scavava l'orto portava l'acqua dal pozzo lontano con i secchi non so come facevo senza William mia che all'apparenza era una tipica ragazza di città trovò sorprendentemente facile inserirsi nella vita del villaggio mia come fai a fare tutto così bene è come se non fossi cresciuta in città nonna sono cresciuta in una casa privata non in campagna ovviamente ma in una città di provincia in un quartiere privato quindi non svengo alla vista di una mucca o di un maiale amo gli animali i nostri genitori tenevano pollame e capre i vicini avevano una mucca e dei maialini ma solo sulle bacche dei funghi andavamo di rado quindi si distinguevano solo gli champignon dall'agarico della mosca ma io e te siamo andati nella foresta un paio di volte e io so già molto meglio sui funghi commestibili quindi sei praticamente una ragazza di campagna vedo che hai imparato in fretta le abitudini della campagna è un bene non sopporto i ragazzi di città hanno in testa solo vestiti e cosmetici non sanno preparare il tè o il borscht non puoi farli avvicinare a una mucca inizieranno a gridare così tanto che la povera mucca perderà il latte per la paura che modo divertente di parlare dovrebbe fare il comico grazie per le sue parole gentili ma qui siamo ben nutriti mia da quanto tempo conosci il mio William non mi ha mai parlato di te prima d'ora vero no nonna usciamo insieme solo da un paio di mesi ci siamo conosciuti in campeggio più di un anno fa ma poi non ci siamo visti per molto tempo solo in un progetto sociale un giorno mi ha chiesto di partecipare e circa tre mesi fa William mi ha improvvisamente chiamato e mi ha chiesto di incontrarlo mi è piaciuto subito mi ricordavo molto di lui così ho accettato di uscire con lui e poi la cosa è andata avanti a spirale e ora ci frequentiamo da più di due mesi William ti racconta tutto di sé è solo che ha avuto una grande storia d'amore nella sua vita e non è finita bene no non me ne ha parlato è un peccato quindi non sa che ha tre figli da un precedente matrimonio uno dei quali è disabile no non lo sapevo ma ora che lo sa sa cosa fa mio nipote mi ha detto che gestisce un'attività improprio qualcosa che ha a che fare con il commercio una specie di negozio credo sì è un negozio di alimentari un piccolo negozio ma William purtroppo non sarà mai ricco è il destino della nostra gente molto tempo fa una strega ha lanciato una maledizione nera su di loro tutto è iniziato con il bisnonno di William Oliver era un bravuomo ma ha sempre vissuto in povertà Oliver lavorava in una fabbrica ma il suo stipendio non era sufficiente nemmeno per lo stretto necessario un giorno quando il bisnonno era ancora giovane incontrò una strega era vecchia e brutta ma aveva poteri magici Oliver le chiese di aiutarlo a diventare ricco la strega accettò di farlo ma a condizione che gli lansiasse una maledizione che si sarebbe trasmessa di generazione in generazione Ogni discendente del suo bisnonno avrebbe vissuto in povertà e non sarebbe mai diventato ricco Oliver senza pensarsi troppo accettò questa condizione e la maledizione fu lanciata da quel momento in poi tutti i discendenti del bisnonno vissero in povertà e non poterono mai diventare ricchi William è l'ultimo della famiglia lavora sodo ma non riesce ancora a fare una fortuna decente mio nipote vuole diventare ricco ma sa che è impossibile a causa della maledizione Nonna Molly William non mi ha mai detto di essere in difficoltà non sembra un uomo bisognoso non sembra povero ma aiuta tutto il villaggio abbiamo molti parenti se si aiutano tutti si ottengono molti soldi così da via tutto prima ancora di averlo raccolto e da via tutto per niente chi deve chiedere i debiti sono tutti parenti la nostra stessa gente si vendicheremo questa è la storia quante volte deve aiutare tutti in questo modo Ogni Messe viene qui e sempre non ha mani vuote se ci ha bisogno di medicine ci di vestiti o scarpe chi di una pala nuova e chi di una mucca morta lui mio nipote fa il giro dei parenti tutti hanno bisogno di qualcosa e lui lo scrive e poi il mese successivo quando arriva porta tutto quello che c'è sulla lista e lo distribuisce e fa una nuova lista per il mese successivo bene siamo stati in giro si è fatto tardi andiamo a letto il mattino è sempre più saggio buonanotte disse Mia la notizia di tre figli e di una folla di persone a carico l'aveva un po' scoraggiata al mattino presto nonna Molly finse di dormire profondamente e ascoltò con attenzione cosa avrebbe fatto l'ospite se avrebbe fatto i bagagli e se ne sarebbe andata o se sarebbe rimasta dopo un po' l'anziana donna sentì Mia vestirsi furtivamente e lentamente per non svegliare l'anziana donna che secondo lei dormiva uscì di casa dopo aver aspettato un paio d'ore nonna Molly sospirando si alzò dal letto per chiamare il nipote ma quando fece il giro della casa trovò le cose di Mia ancora lì dove era andata quella ragazza pensò nonna Molly e iniziò a sbrigare le faccende domestiche e a preparare la colazione un'ora dopo la bambina scomparsa tornò con un grande cesto di funghi nonna Molly sono andata nel bosco a divertirmi e ho raccolto dei funghi wow un intero cesto pieno di funghi era da tanto tempo che non facevo una tale raccolta sono abbastanza per salarli e friggerli e li asciugherò non preoccupatevi se ne avrete bisogno ne raccoglierò altri per me non è un problema e qui ci sono posti per i funghi l'importante è che ricordiate quello che vi ho insegnato se un solo fungo velenoso finisce nel vostro cibo è finita quindi io e te dovremo esaminare a fondo questo cestino e io ho già preparato la colazione quindi lavati le mani e vieni a tavola ai funghi ci penseremo dopo non si può lavorare a stomaco vuoto non ho bisogno di molta persuasione ho una fame da lupo questo è un bene non segui nessuna dieta non fai la fame mi sei piaciuto subito non posso dire nulla di male su di te ma ho sbagliato mia perdona anche me vecchia nonna perché dovrei perdonarti e la mia povera testa ho pensato di metterti alla prova ti ho detto un sacco di cose su mio nipote per vedere come avresti reagito e quando ho visto che non eri imbarazzata dalla notizia mi sono vergognato forse ho offeso una brava ragazza per niente quindi perdonami vecchia cosa posso accettare vecchia o giovane è lo stesso ho già intuito che nelle sue storie c'è della finzione solo che non capivo perché ne avessi bisogno ho pensato che si trattasse di un capriccio da vecchi le nonne spesso inventano storie sui loro nipoti per mostrarle agli altri ma perché avrebbero dovuto dire tutte quelle cose è questo che non aveva senso per me mia ero preoccupata per mio nipote e se tu fossi solo un'altra comoda cacciatrice di mariti succhiava a lui come una sanguisuga sì tutto il sangue e ne beveva tutti i succhi per i suoi capricci i crediti lo costringerebbero ad accendere prestiti in modo da poterti comprare vari regali costosi tre lavori sarebbero impiegati per pagare i debiti e poi butterebbe via quello che resta avresti calpestato tutto il suo orgoglio virile mi è rimasto solo un nipote in tutto il mondo voglio molto bene a William e non lo lascerò perché non è ricco non ho bisogno di molto mi basta averlo accanto abbiamo gusti e hobby comuni e la stessa visione della vita è molto frustrante per me essere messa alla prova in questo modo sai pensavo che tu fossi sincero con me come io lo ero con te e qui stai recitando e non sei affatto malato mi sembra di capire mia tu non capisci tutto guarda laggiù leggi tu stessa e se hai ancora delle domande chiedi pure ti prometto che questa volta ti risponderò onestamente e senza fare la furba detto questo Molly tirò fuori un giornale che aveva conservato con cura per molti anni e lo porse al suo ospite in prima pagina c'era un grande articolo con il titolo altisonante orgoglio della nostra regione la ragazza scioccata lesse il contenuto della pubblicazione e cominciò a rendersi conto di non sapere molto del suo prescelto Mia apprese dall'articolo che William era un uomo d'affari di successo che aveva ottenuto grandi successi nel suo campo era un vero e proprio pioniere e innovatore aveva ottenuto molti riconoscimenti e successi e inoltre partecipava attivamente alla vita pubblica ed era impegnato in opere di beneficenza aveva aperto una clinica privata con un programma preferenziale aiutava i bambini delle famiglie a basso reddito e partecipava a vari progetti sociali ha anche scoperto che era a capo di un'intera holding e non di un piccolo negozio di alimentari come aveva pensato in precedenza naturalmente Mia è rimasta scioccata e deliziata da ciò che ha appreso sul suo prescelto si rese conto che non era solo un uomo bello e affascinante ma anche un uomo dal cuore grande e dalle capacità straordinarie ma insieme all'ammirazione nel suo animo si insinuò il risentimento cos'altro non so di William forse è davvero sposato e ha sette uomini in giro oppure è uno sceico arabo con una montagna di mogli no William non è più sposato di già quindi aveva una moglie ce l'aveva non c'è bisogno di nasconderlo e dei figli no quel serpente non gli ha dato figli Dio ha salvato mio nipote da una simile cucciolata che tipo di figli possono nascere da un serpente solo serpenti giovani uomini molli come puoi parlare di bambini in questo modo chiunque li avesse avuti sarebbe stato suo figlio e non esistono figli di altri ne avrai sentito parlare la gente adotta persino i bambini dagli orfanotrofi e lei sta parlando di pronipoti i poteri superiori lo sanno bene se quel serpente potesse partorire qualcosa di normale Dio probabilmente le darebbe almeno un figlio nella sua situazione un figlio le farebbe bene quando ha cercato di spogliare mio nipote non sapete che tipo di persona fosse la sua ex moglie e ghia la difendete non sto difendendo nessuno mi sto solo meravigliando del modo in cui parlate dei bambini non nati decidendo chi può nascere e chi no partiamo dal fatto che questo non è di sua competenza il destino vuole che sia così lei ha ragione ma non è questo che il destino aveva in mente non hanno avuto figli perché non ci si poteva aspettare che quella donna producesse e non le importava dei figli quando si corre dietro ad altri uomini che tempo c'è per pensare ai bambini tradiva William tradire è un eufemismo gli ha fatto tante di quelle corna che lui non riusciva a superare l'ingresso aggrappandosi a lei e con chi l'ha fatto l'autista personale di William l'autista di William che incubo e solo quello con cui l'ha beccata di persona e quante altre ce ne sono state prima di lui Dio solo sa quante non una donna del diavolo come quella che tormentava il mio William se solo sapeste e lui si rimproverava di non averle dato qualcosa ecco perché ha fatto quello che ha fatto pensavo che se avessi prestato più attenzione a lei forse non sarebbe successo affatto mio nipote era troppo ingenuo e poi cosa è successo poi una zuppa e un gatto William era molto turbato e non riusciva a credere che gli stesse accadendo davvero pensava che sua moglie lo amasse ma alla fine si è scoperto che lo stava solo usando per raggiungere i suoi obiettivi ma non è tutto dopo che William scoprì la sua relazione la moglie decise di portargli via l'azienda voleva usare il suo denaro e il suo potere per diventare ricca e di successo William era disperato non sapeva cosa fare ma fortunatamente aveva degli amici che lo sostenevano in questo momento difficile aiutandolo a sopravvivere a questa crisi e a iniziare una nuova vita povero William William non è povero ma molto ricco ecco perché a tutti i pesci e le patatine fritte vogliono prendere una briciola dal tavolo ecco perché ti ho fatto controllare non volevo un'altra sanguisuga che lo succhiasse perdonami se mi sbaglio ma lo è è tutto ciò che mi resta di mio figlio non ho altri parenti quindi mi dispiace Dio perdonerà rispose mia e andò a preparare le sue cose la ragazza era soffocata dal risentimento certo si rendeva conto che c'era del vero nel ragionamento di Molly ma in quasi un anno di conoscenza e in pochi mesi di contatti ravvicinati William non aveva mai imparato che tipo di persona fosse cosa ci faceva qui allora prima che Molly potesse rendersene conto Mia mise rapidamente le sue cose nella borsa da viaggio chiamò un taxi e se ne andò per la prima volta dopo tanto tempo Molly sentì di aver sbagliato i suoi calcoli gemendo e lamentandosi cercò il cellulare che le aveva regalato il nipote riconoscendo a malapena le cifre compose il numero di William nipote credo che tua nonna abbia sbagliato nonna cos'è successo ho fatto quello che avevo programmato ma Mia mi ha capito e ha capito che le stavo mentendo ho dovuto raccontarle tutto e le cose sono andate anche peggio deve essersi sentita ferita o arrabbiata che cosa ha fatto ti ha ferito in qualche modo è stata scortese con te no onestamente preferisco che sia stata scortese e cosa ha fatto ha fatto i bagagli e se n'è andata come quando dove è andata come ha chiamato un taxi circa 20 minuti fa e se n'è andata perché non mi ha chiamato subito stavo cercando il mio telefono non ricordavo dove l'avevo messo non lo uso tutti i giorni va bene vedrò di trovarla William cancellò la chiamata in arrivo e iniziò a comporre il numero di Mia l'operatore rispose con un messaggio che diceva che il telefono era spento o fuori portata William attese qualche secondo e ricominciò a comporre il numero non cambiò nulla decise allora di andare a casa di Mia e di aspettarla lì se non fosse ancora arrivata perché in teoria nell'ultima mezz'ora non avrebbe avuto il tempo di tornare dal villaggio e guidare fino a casa sua dieci minuti dopo William era già davanti all'ingresso di casa sua per sicurezza salì al piano di lei e suonò il campanello quando ascoltò non sentì alcun segno di presenza in casa scese quindi al piano di sotto e aspettò il ritorno della ragazza sulla panchina ma dopo un'ora o tre non arrivò nessun taxi alla porta allora William cominciò a preoccuparsi e se le fosse successo qualcosa durante il tragitto forse avevano avuto un incidente o una gomma a terra ci pensò su e si ricordò che aveva il numero di telefono del capo del dipartimento regionale di controllo del traffico dopo aver cercato nella rubrica del suo smartphone William compose il numero giusto ciao Tim sono William per te William William è un piassere sentirti è passato un po' di tempo dall'ultima volta che mi hai chiamato lo stesso vale per me non avevo intenzione di tenerti occupato ma ho un problema e temo che tu sia l'unico che possa aiutarmi a risolverlo qual è il suo problema? hai avuto un incidente o qualcosa del genere? non io in realtà non lo so ancora mi chiedevo se c'è un modo per controllare i rapporti del giorno ci sono stati incidenti stradali nelle ultime quattro ore beh se ne hai bisogno lo scopriremo niente è troppo economico per un bravo uomo prendo le informazioni e le faccio sapere ok mi accontenterà grazie mille non c'è di che beh mi farò sentire disse e attese che Tim lo richiamasse l'attesa a quanto pare si trascinava in modo incredibilmente lento William non riusciva a smettere di essere nervoso e si sentiva come se fosse sulle spine finalmente arrivò la tanto attesa telefonata bene William ti comunico che non ci sono stati incidenti stradali nelle ultime quattro ore spero che le informazioni siano state utili Tim grazie mille sono in debito con te da un lato era sollevato almeno sapeva che Mia non aveva avuto un incidente d'altra parte William non sapeva dove cercarla e dopo averci pensato un po' si ricordò della comunità di volontari decise di andarci una volta lì William andò direttamente dalla direzione dell'organizzazione ciao Peter io sono William abbiamo lavorato insieme a diversi progetti sociali come ricordavo è un piacere vederti a cosa devo questa visita è previsto un nuovo progetto non esattamente sono interessato a una vostra dipendente è una volontaria part time è coinvolta in molte attività si chiama Mia è una mia amica ma per qualche motivo ha smesso di contattarmi non è nemmeno a casa sono preoccupata per lei può dirmi l'ultima volta che l'ha vista forse le ha parlato al telefono oggi ah mia brava ragazza attivista è passata oggi abbiamo appena iniziato un nuovo progetto federale abbiamo bisogno di volontari per aiutare un'altra regione quindi si è offerta volontaria che tipo di progetto dove e come è andata quando è arrivata un autobus di volontari stava per partire è partita con loro aveva con sé la sua borsa deve essersi preparata in anticipo quindi dove l'avete mandata qual è la destinazione esatta la sede dei volontari è in un'altra regione posso darle le coordinate o può trovarlo lei grazie ma userò il navigatore satellitare dopo aver ringraziato frettolosamente il direttore William uscì dall'ufficio e corse alla macchina traxiando il percorso sul navigatore William scoprì che se avesse guidato a velocità massima in autostrada sarebbe arrivato in 10 ore ma senza soste e ingorghi avrebbe impiegato 3 di siore e mezza prima di partire decise di parlare con la nonna e compose il suo numero nonna vengo a prendere mia se n'è andata con i volontari in fretta e furia in un'altra zona devo trovarla lì e spiegarle tutto ti chiamo per farti sapere dove sono andata se qualcuno mi sta cercando lì in campagna forse la connessione non è buona quindi ti chiamerò io stesso da lì non preoccuparti per me William è tutta colpa mia sono un vecchio sciocco pensavo di essere uno sciocco ho combinato un pasticcio e ora devi occupartene tu perdona la mia anima peccatrice per amore di Cristo ero fuori di testa nonna non sono arrabbiata con te anche tu non sei un ragazzino avresti potuto immaginare che simili prove possono offendere una persona non importa va bene parleremo più tardi non posso perdere altro tempo così ho aspettato in vano fuori da casa sua per diverse ore finché non si è fatta sentire William lasciò cadere la chiamata e premette il pedale del freno 12 ore dopo William arrivò nella regione l'unica cosa che restava da fare era trovare l'amato villaggio dopo aver girovagato per i dintorni William decise di ricorrere all'aiuto della gente del posto fermata l'auto sul ciglio della strada William uscì a parlare con le nonne che vendevano torte e frutta lungo l'autostrada nonna quanto costano le torte oggi dipende da cosa contengono mia cara con i cavoli 50 con le patate 60 con patate e fegato 70 con il fegato 80 quale vuoi ne prenda uno alla volta ogni tipo è delizioso non se ne pentirà e se li prendo in blocco mi farete uno sconto certo bello qualsiasi cosa per te quante torte ti sono rimaste mezzo sacchetto di ogni tipo cioè circa 10 torte per ogni sacchetto fanno 2600 ne pago 3000 ma oltre alle torte mi dirai come arrivare al villaggio è un accordo perché non possiamo fare un accordo non sembri un borghese perché non me lo dici se devo farlo probabilmente stai cercando qualcuno hai perso la tua fidanzata nonna vedi quanto sei perspicace non posso nasconderti nulla ho perso la mia fidanzata ah gli affari di cuore senti allora percorri questa strada poi gira per la strada di campagna ci sarà un cartello da lì dovrai guidare lungo i campi se ti perdi c'è di ai miei titoli ti diranno dove andare dopo grazie nonna non dimenticate le torte amanti stai volando non senti la terra sotto i piedi è vero ho dimenticato le torte grazie ancora buon viaggio se Dio vuole incontrerai la persona che ami non sarai mai più diversa oh mamma vorrei tanto che tu dicessi questo con queste parole William e uforica per l'attesa dell'incontro si rimise in viaggio un'ora dopo apparve un villaggio su una collina dietro i campi quando vi entrò vide il villaggio nella sua bellezza incontaminata lo accolsero le capanne di legno nodoso le siepi fatte di braccioli e le galline che correvano lungo la strada di campagna fermò l'auto vicino all'edificio più grande che sembrava una sala del villaggio e scese per sgranchirsi le gambe e fare una ricognizione su una panchina erano seduti degli anziani che discutevano animatamente di qualche questione importante vi dico che è Andrew che ruba i polli non lavora da un anno beve vodka nera e ogni sorta di schifezza ha bisogno di qualcosa da mangiare così ruba i polli locali Stefan non ti vergogni a parlare male delle persone hai qualche prova? l'hai preso per mano? ho tenuto una candela mentre lui rubava i polli di notte nessuno è un ladro se non viene preso allora chi pensi che lo faccia? chiunque nel nostro villaggio non ci sono molti bisognosi e poi perché pensi solo alle persone? forse sono lupi o volpi ora ce ne sono molti nei boschi se i cani sentissero l'odore dei lupi e delle volpi farebbero un tale baccano che tutto il villaggio sarebbe in rivolta ma qui c'è pace e tranquillità quindi queste persone sono anche nostre alle quali i cani sono abituati quindi cosa suggerisce di fare? dovremmo mettere delle trappole lungo i recinti non ruberebbe l'uccello in modo troppo vistoso e se si ferisce gravemente a una gamba con una trappola è inutile che si arrampichi nei cortili della gente e rubi i beni altrui se la polizia non può fare nulla prenderemo il criminale da soli la milizia è stata ribattezzata polizia molto tempo fa cambiano il nome ma non serve a nulla né la polizia né la milizia in quel momento William si avvicinò agli anziani buonasera sapete dirmi dove si trova la sede della vostra organizzazione di volontari? sera quale organizzazione di volontari? non ricordo nulla del genere nel nostro villaghiu mi hanno detto che il villaghiu ospiterà la sede dell'organizzazione di volontari a To Good For All verranno qui per aiutare i volontari locali non ha sentito nulla del genere no, non ne ho sentito parlare aspetti un attimo stamattina è passato un autobus dal municipio forse si trattava di questo il volontario è suo a chi puoi chiedere di questo autobus? al presidente Carl probabilmente è ancora lì grazie William ringraziò i vecchietti e si diresse verso l'edificio che aveva correttamente identificato come la sala del villaggio ad accoglierlo c'era una donna di età indefinita con un trucco brillante e una voce stridula e sgradevole probabilmente fungeva da segretaria e da guardia giurata chi vuole? sono qui per vedere Carl di cosa si tratta? di un'organizzazione di volontariato e di progetti sociali ha preso un appuntamento? no allora Carl non può riceverla oggi è la fine della giornata e vede solo persone con appuntamento una ragazza a suo rischio e pericolo supponeva William capisco vengo da un'altra regione per una questione importante non ho tempo di aspettare il prossimo giorno di appuntamenti è letteralmente una questione di vita o di morte devo parlare urgentemente con il presidente questo è quello che dicono tutti e poi si scopre che sei venuto di nuovo a cedere l'elemosina o che vuoi vendermi della spazzatura se il presidente del consiglio del villaggio inizia ad accettare tutti senza appuntamento non potrà più tornare a casa senta, io sono un noto uomo d'affari filantropo e personaggio pubblico proprietario della Cuban Prestige Holding che comprende tra le altre cose una catena di negozi di alimentari e il centro medico Health of the Nation se il suo presidente scopre che lei non ha permesso a un potenziale investitore di incontrarlo temo che potrebbe perdere il suo lavoro queste parole hanno apparentemente fatto breccia nella corazza della solida segretaria ha contattato il presidente in teleconferenza Carl hai qui un visitatore non annunciato insiste per vederti di persona proprio ora dice di essere un noto uomo d'affari lo faccio entrare? questo uomo d'affari non può aspettare fino a domani è la fine della giornata lavorativa dice che è qui per una questione importante non può aspettare va bene, vediamo cosa c'è di importante arrivo entra, ha detto la segretaria si sta già rivolgendo a William William varcò una porta satura dietro la quale si trovava il tipico ufficio di un dirigente di medio livello un grande tavolo da conferenza si trovava al centro della stanza perpendicolare ad esso c'era la scrivania del presidente alle pareti erano appesi i ritratti dei dirigenti del paese e della regione bandiere, stemmi e altri oggetti Carl era un uomo quasi rotondo, calvo che poteva tranquillamente avere tra i 50 e i 60 anni il presidente fissò l'ospite con interesse salve cosa ci fa qui? sa che ho una giornata lavorativa fino alle 18 e ora sono 10 minuti prima di quell'ora salve non le ruberò troppo tempo sono lo sponsor di un programma sociale che coinvolge volontari di diverse regioni i volontari dovevano venire qui oggi ma li ho persi mi è stato detto che il loro autobus stava arrivando al consiglio del villaggio potrebbe dirmi dove sono andati dopo dov'è la sede dei volontari? questa è la domanda più importante che non poteva aspettare fino a domani se siete sponsor di questo evento dovreste sapere meglio di me dove si trova l'organizzazione che state sponsorizzando altrimenti non controllate poi dove vanno a finire i vostri soldi sto lavorando con la nostra divisione regionale e Hoaghi ha parlato con il responsabile della divisione regionale mi ha detto che ha mandato il nostro gruppo di volontari nel vostro villaggio ma nessuno conosce l'ubicazione esatta della sede dei volontari non voglio mentire c'è una persona cara in quel gruppo ha smesso di contattarmi e devo assicurarmi che stia bene ma avresti dovuto dirlo e basta perché darsi tanto da fare? non siamo umani certe cose le capiamo anche noi vai a trovare Anne adesso l'hai già conosciuta è la mia assistente chiedile di scriverti l'indirizzo della sede dei volontari del programma federale dille che stai cercando un gruppo lei vi dirà tutto compreso il nome della pensione dove alloggiano vi dico subito che non vivono nel nostro villaggio qui c'è solo una strada quindi è un po' difficile grazie mille mi dispiace di averla disturbata non c'è problema sei giovane anche noi eravamo così beh buona fortuna per la ricerca William si ritrovò di nuovo nell'atrio che era anche l'ufficio del vicepresidente Anne Carla ha detto che potevi darmi l'indirizzo della sede dei volontari del programma federale sto cercando un gruppo di volontari che è venuto qui di recente mi serve anche il nome della pensione in cui alloggiano sapevo che avresti distratto un uomo impegnato dal suo lavoro per qualche sciocchezza non aggraviamo la situazione mi mandi l'indirizzo e il nome che le è stato chiesto e non disturberò nessun altro sarei andato a casa molto tempo fa e per colpa tua sono dovuta rimanere fino a tardi brontolò la donna scrivendo qualcosa su un foglio di carta ecco ho scritto tutto quello che avevamo nello schedario troverai il resto grazie mille grazie mille non si può mettere in tasca non si può mettere sul pane rispose Anne ironicamente con una strizzata d'occhi sorniona ho capito l'antifona mi farò perdonare sulla via del ritorno prometto di fermarmi per un ringraziamento più tangibile William raggiunse la pensione solo nel tardo pomeriggio non aveva senso cercare Mia di notte così decise di sistemarsi in una stanza libera e di continuare la ricerca al mattino alle 6 del mattino William era già alla reception buongiorno cosa posso fare per lei? chiese la receptionist di turno salve ho bisogno di sapere se il gruppo di volontari di Mia si è registrato ieri nella vostra pensione si tratta di informazioni riservate non posso darle a meno che non sia un ufficiale delle forze dell'ordine ma almeno mi dica se qualche volontario si è registrato qui ieri perché me lo chiede? il fatto è che la mia ragazza dovrebbe far parte di questo gruppo ma non si fa sentire da oltre 24 ore ho paura che le sia successo qualcosa sono venuto qui per cercarla quindi vi chiedo di essere umanitari e di aiutarmi a trovare la mia ragazza per assicurarmi che stia bene capisco perfettamente ma se la ragazza non è una sua parente compresa sua moglie non possiamo darle alcuna informazione su di lei dov'è la garanzia che non vi state inventando tutto? forse non vuole vederti per questo non ti contatta e tu la stai perseguitando illegalmente posso mostrarle delle foto di noi due insieme mi dispiace ma le foto di noi due insieme non dicono nulla è possibile che voi due vi frequentaste molto poi avete litigato e la ragazza non vuole più vedervi non possiamo permettere che i nostri ospiti vengano disturbati si rende conto che potrebbe essere nei guai e ora stiamo solo perdendo tempo a litigare invece di trovarla se pensate che la ragazza sia nei guai e non vi contatta per molto tempo vi consiglio di contattare la polizia scrivete una denuncia di scomparsa tale dichiarazione è obbligatoriamente accettata in qualsiasi stazione di polizia indipendentemente dal luogo e dall'età della scomparsa può essere presentata da qualsiasi cittadino non necessariamente da un parente ma credo che sia quello che dovrò fare William rispose tristemente stava per lasciare la casa degli ospiti quando vide Mia in piedi sulle scale William, cosa ci fai qui? Mia, Gesù Cristo, grazie a Dio ti ho trovata stai bene, perché non rispondi al telefono? ti ho cercato ovunque ho bloccato la sim di proposito così non potevi chiamarmi perché mi stavi cercando? non sono scomparsa ho la mia vita, i miei affari è quello che sto facendo quindi non so perché sei qui nessuno te l'ha chiesto Mia, so che probabilmente sei arrabbiata con me e mia nonna ma credimi, non volevamo farti del male non ho mai voluto farti del male è solo che sono abituata a fidarmi di mia nonna mi ha detto che sapeva fare la cosa giusta ma immagino che a te non sia piaciuto ti prego di perdonarci chi siete voi per fare esperimenti sulle persone? cosa sono? una specie di cavia? cosa vi dà il diritto di mettermi alla prova? forse sei tu quello che non è giusto per me mi hai tenuto nascosto tutto per qualche motivo poi hai iniziato a raccontarmi delle favole che tipo di reazione ti aspettavi da me che mi sarei commossa e mi sarei gettata sul tuo collo? non voglio niente da te stai lontano da me Mia, lasciami spiegare non voglio sentire nulla cosa puoi spiegarmi? che pensavi che volessi i tuoi soldi? così hai finto di essere un normale lavoratore con un piccolo negozio tua nonna aveva una specie di gioco di spionaggio si è inventata un sacco di cose che non si possono mettere in testa pensavo che fosse malata e che la sua testa non fosse a posto con la vecchiaia quindi raccontava storie invece è solo una vecchia intrallazzatrice che ha cent'anni e continua a farlo non avevo mai pensato che una persona anziana potesse essere capace di una cosa del genere senti non c'è bisogno di insultare mia nonna non ti ha fatto niente di male stava solo cercando di proteggere suo nipote non la sto difendendo ma è comprensibile perché l'ho insultata? come si chiama una persona che ha escogitato un piano astuto per mettere alla prova la potenziale sposa del nipote e lo ha messo in pratica fingendosi malata e con gli spaghetti alle orecchie ho scelto gli epiteti più decenti che mi vengono in mente mi dispiace non abbiamo frequentato un istituto per nobildone non siamo adestrati alle buone maniere non l'ha fatto per dispetto mia nonna è della vecchia scuola a quanto pare ai suoi tempi si tenevano delle spezie di prove per le spose così ha pensato di metterti alla prova per vedere i tuoi punti di forza e di debolezza beh, non puoi spararle per questo non è un crimine devi capirlo non devo niente a nessuno non me ne frega niente di quello che i tuoi parenti pensano di me se dovessi sposarmi sposerei te non loro non è per loro che devo vivere con me ma per te che devi vivere con me cosa c'entra tua nonna con i miei punti di forza e di debolezza? viviamo nell'antica Russia? ahi! siamo nel ventunesimo secolo se avevi bisogno di una fanciulla che vivesse secondo i principi patriarcali e le vecchie tradizioni evidentemente ti sei rivolto al posto sbagliato lasciate che sia vostra nonna a cercare una sposa adatta nel vostro villaggio e lei conosce tutti quindi non c'è bisogno di controllare sceglierà subito quelle giuste mia, basta così ti abbiamo davvero ferito così tanto? stai facendo una tragedia dal nulla? hai sviluppato complessi di inferiorità e hai smesso di fidarti delle persone non ti ho mai dato motivo di dubitare di me e se non ti fidi così tanto di me che senso ha continuare la nostra relazione? sono completamente d'accordo con tutto quello che dici e sono anche andato da uno psicologo per liberarmi dei miei complessi e la mia ipersensibilità e la mia ansia credimi ho fatto dei passi per liberarmi della mia sfiducia ma capisci a me e a te che ho vissuto per molti anni temendo costantemente un inganno da parte delle donne non potevo dall'oggi al domani prendere e iniziare a fidarmi di un estraneo ho passato molto tempo per entrare in contatto con te sei stata la prima donna dopo il mio divorzio che ho voluto avvicinare ricorda sono stato io a trovare il tuo numero di telefono a chiamarti e a chiederti di incontrarci e poi hai deciso di farmi un test per assicurarti che non mi sbagliassi sì il test non era necessario ma quando mia nonna l'ha proposto la sua idea non mi è sembrata così spaventosa c'era un filo di logica per questo ho detto di sì mia voglio che tu sappia che l'amore può essere molto complicato e difficile ma non devi avere paura delle difficoltà se si ama qualcuno bisogna lottare per il proprio amore e non arrendersi non dimenticate mai che l'amore è la cosa più importante della vita ecco perché sono venuto qui per te se non mi importasse di te non avrei fatto tutta questa strada per cercarti mia sono sicuro di amarti e di non aver bisogno di nessun altro se non di te non hai assolutamente nulla per me se non provassi nulla per te non potresti farmi del male solo le persone a cui tieni e che ti sono vicine possono farti del male mia vuoi essere mia moglie non voglio stare lontano da te un minuto di più ogni respiro che faccio senza di te è difficile da sopportare sono molto malato e solo tu puoi porre fine alle mie sofferenze o condannarmi alla morte eterna non mi farai altri esami, vero? o devo fare un'altra missione dopo il matrimonio? mia, andiamo dimentichiamo questa stupida storia del test ti chiederò mille volte scusa se mi prometti di perdonarmi e di dimenticare tutta questa storia una volta per tutte non posso promettere di dimenticare subito perché il ricordo è ancora fresco e non te lo ricorderò a meno che tu non ricordi o faccia di nuovo qualcosa di simile siamo d'accordo ora fai le valigie, stiamo per partire abbiamo ancora qualche tappa da fare il giorno dopo William e Mia andarono di nuovo da molli la vecchia era al settimo cielo quando li vide insieme e dalla porta di casa cominciò a piangere mia, mi dispiace sono una vecchia pazza non arrabbiarti con me nonna, William e io ne abbiamo già parlato non hai nulla di cui scusarti con me quello che è successo è passato dimentichiamolo come uno sfortunato incidente nonna, ho chiesto a Mia di sposarmi ma non accetterà senza la tua approvazione siamo qui per questo figlioli, sono così felice per voi certo, vi benedico per il matrimonio perché anche un cieco può vedere che non c'è modo di sposarsi amore e consigli vivete insieme, amatevi e apprezzatevi a vicenda e non dimenticatevi di me, il vecchio almeno venite a trovarmi qualche volta aspetterò con ansia le vostre visite Molly approvò sinceramente la scelta del nipote durante il soggiorno della ragazza nel villaggio ha visto che Mia è gentile, laboriosa e intelligente pertanto, la nonna di William era sicura che Mia sarebbe stata un'ottima moglie per suo nipote William fu molto felice di sentirlo finalmente la sua vita sarebbe cambiata e sarebbe stato felice con una donna perfetta per lui grazie a tutti grazie a tutti